Diamo inizio all'evento. Grazie per essere qui. Benvenuti a Linux Day 2024, organizzato dal NALUG, l'associazione degli utenti GNU Linux napoletana. Io sono il presidente Giuseppe Aceto e poi una delle socie vi darà una presentazione dell'associazione che è una delle più longeve sul territorio italiano. Ogni anno questo evento è quello che ci permette di riunirci e di incontrare il resto della popolazione campana. Vedrete durante questo Linux Day diversi interventi molto vari, sia per natura tecnica o applicativa, sia per gli argomenti che trattano i domini di applicazione. Questo non è un caso perché a parte il fatto che l'open source ha smesso di essere un dettaglio tecnico, tanto tempo fa è diventato una parte integrante della vita tecnologica di tutti. A partire dalle istituzioni fino ad arrivare al singolo che usa software open source senza doverlo sapere. Però glielo facciamo sapere con questo tipo di eventi. La cornice è eccezionale, è la prima volta che facciamo un Linux Day in questa sala e quindi ringraziamo il comune di Napoli per il patrocinio, per averci ospitato gratuitamente in questo ambiente stupendo. Anche c'è il patrocinio morale del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell'Informazione che da anni supporta le nostre attività. Ringrazio i sponsor Internet Idea e Unitiva che hanno dato un contributo che tra l'altro ci permetterà di offrirvi un rinfresco a ora di pranzo. E poi abbiamo dei video di presentazione di entrambi gli sponsor, quindi lascio direttamente la parola agli sponsor prima e poi alla presentazione dell'associazione e dell'open source in genere, che è il motivo per cui siamo qui. Vi auguro di godervi questa giornata sia ai relatori che ringraziamo per aver dato disponibilità, aver preparato e mettersi così a esporsi nel condividere le loro esperienze, le loro conoscenze. Questo è proprio nello spirito di questa associazione, l'analog, l'associazione di promozione sociale, cerca di fare qualcosa di utile gratuitamente per gli altri, questo scambio di informazioni, di conoscenze, nella speranza che sia utile per aumentare il vantaggio nella società di queste attività. Va bene. Mi taccio, possono partire i video? Sentiamo l'audio? Allora salve a tutti e benvenuti al Linux dei 2020. Io sono Carla Coppola, sono una socia del Nalug da vari anni e abbiamo pensato di proporre, prima di entrare nel vivo dei talk che si susseguiranno in questa giornata, di fare una presentazione introduttiva a una serie di tematiche che durante il corso di questa giornata saranno affrontate, saranno esaminate. E quindi in particolar modo vogliamo cercare di capire perché il software open source, il software libero è importante e quindi anche un po' perché siamo qui agli uniti noi oggi. Dunque, molti dei nostri soci sicuramente già conosceranno le differenze che ci sono tra software open source, software libero e così via, però mi rivolgo principalmente ai neofiti della materia e sostanzialmente molto spesso ne sentiamo parlare di software libero, software open source, software gratis e tendiamo a pensare che questi si sovrappongano tra di loro. In realtà ci sono delle sottili differenze che stanno anche alla base della diatriba che esiste da molti anni e che ancora oggi va avanti tra i due filoni principali, tra i due movimenti principali che sono quello del software open source e del software libero. Per cercare appunto di capire quali sono le differenze e quindi perché esiste tutta questa diatriba però dobbiamo fare prima di tutto un passo indietro e quindi cercare di capire che cosa è successo a partire dagli anni 80. Negli anni 80 infatti c'è stato il boom dell'ingegneria del software che ha provocato un aumento esponenziale del numero di software in circolazione, software che inizialmente erano distribuiti in maniera libera, quindi senza alcun tipo di chiusura, c'era la massima apertura, il massimo accesso al codice sorgente e ovviamente questa cosa rendeva più facile anche adattare i vari software agli hardware delle varie istituzioni universitarie, delle varie istituzioni aziendali e così via. Il problema però che c'è stato negli anni 80 è che appunto si è iniziato ad avere una prima forma di chiusura del software e questa cosa per esempio è accaduta con il sistema operativo Unix che è uno dei primi sistemi che è stato sviluppato. Unix infatti era stato inizialmente distribuito alle università per pochi soldi e quindi in maniera libera però poi è stato chiuso e questa cosa non è andata giù ad alcuni programmatori, in particolar modo a un programmatore del MIT quale Richard Stolman che ha deciso di opporsi al movimento di chiusura dei software creando un sistema operativo che fosse libero e questo sistema operativo è stato il progetto GNU. Intorno al progetto GNU si sono riunite una serie di personalità che hanno cercato di collaborare e è nata la Free Software Foundation sotto la quale è nata anche la prima licenza libera. Oggi ce ne sono moltissime di licenze. Il problema è che Richard Stolman è stato quindi un po' il pioniere dell'ideologia del software libero. In particolar modo ha raccolto la sua idea all'interno del manifesto GNU che se qualcuno di voi fosse interessato può scannerizzare il QR code e leggerlo e in particolar modo la sua idea era appunto che per utilizzare i computer in maniera degna il software dovesse essere libero. Stolman però dopo vari anni non era ancora riuscito a completare il sistema operativo e quindi nel 1992 è arrivato in suo soccorso Linus Torvalds che era all'epoca uno studente di informatica dell'università di Helsinki che stava lavorando ad un progetto di un kernel chiamato Linux dal suo stesso nome e questo progetto è considerato il primo progetto open source mai realizzato perché lui lo condivise su internet e si creò una prima forma di community attorno a questo progetto di una serie di persone che iniziarono a collaborare e quindi a cercare di migliorarlo, di correggere i bug, correggere gli errori. E fece talmente tanto scalpore che fu notato anche da Stolman il quale decise di integrarlo nel suo progetto di sistema operativo e nacque quindi il sistema operativo GNU Linux dal quale sono derivate tutte le distribuzioni Linux che noi oggi utilizziamo. Il problema però fu che quindi il movimento del software libero stava iniziando a diventare sempre più rilevante e questa cosa non stava tanto bene alle aziende che quando sentivano parlare di free software tendevano a storcere un po' il naso perché sembrava si trattasse di software gratuito e quindi alcuni informatici pensarono di coniare un nuovo termine che andasse a sottolineare l'aspetto più pragmatico del software libero ossia quello dell'accesso al codice sorgente e nacque quindi la terminologia di open source. Per capire quindi quali sono le differenze prima di tutto capiamo il software libero che cos'è? È un software che sostanzialmente sottostà a quattro libertà fondamentali che sono la libertà di eseguire per qualsiasi scopo, in qualsiasi luogo senza dover notificare al proprietario, allo sviluppatore l'esecuzione del codice di poter studiare come funziona, quindi avere ovviamente l'accesso al codice sorgente di poter ridistribuire copie, eventualmente anche a pagamento e di migliorare e distribuire i miglioramenti appunto quindi c'è la possibilità di scaricare per esempio una distribuzione Linux o comunque di un qualsiasi software, migliorarla, quindi modificarla e ridistribuirla. Il software open source anche è sostanzialmente rispetto a una serie di criteri che sono stati definiti dalla open source initiative che sono molto simili a quelli del software libero infatti troviamo anche in questo caso la libera ridistribuzione il codice sorgente accessibile ovviamente è consentito creare opere derivate però mantenendo l'integrità del codice sorgente dell'autore il che significa che se una distribuzione viene, cioè un software viene modificato bisogna distribuirlo con un nome o con un numero di versione differente per conservare appunto l'integrità del codice originale e tutta una serie diciamo di sempre libertà, di attenzioni sulle licenze e sulle discriminazioni. Dunque arriviamo quindi a capire che la differenza sostanziale tra software open source e software libero non è tanto una differenza diciamo pratica quanto più di ideologia nel senso che il software libero, il movimento del software libero vuole porre l'accento sull'aspetto etico quindi sulla libertà che si vuole garantire a chi utilizza il software, quindi agli utenti mentre invece il software open source va a porre l'accento sull'aspetto più pragmatico dell'accessibilità al codice sorgente. Bisogna comunque come disse Solman pensare in ogni caso quando si parla di software libero perché noi qui diciamo in questo ambiente parliamo principalmente di software libero quindi in quanto ideologia bisogna pensare al free software non come nel free beer ma come nel free speech perché ovviamente non si tratta di gratis necessariamente. Ad ogni modo per racchiudere un pochino tutte queste terminologie è stato coniato il termine FLOSS che sta per free libro open source software e il FLOSS va quindi a porre diciamo l'accento sia sull'aspetto etico che su quello più pratico. Quando pensiamo al free software diciamo ci viene da pensarci in contrapposizione ovviamente al software proprietario perché è quella la vera contrapposizione e quando pensiamo al software proprietario che cosa ci viene in mente? Ci vengono in mente le licenze proprietarie e quindi il fatto che bisogna pagare. Quindi questo ci potrebbe indurre erroneamente a pensare che il free software diciamo che in linea di massima è gratuito non sia sottoposto ad una licenza. Questo non è vero. Esistono moltissime licenze libere e licenze open source. Anche in questo caso ci sono delle sottili differenze. In particolar modo oggi ne esistono più di 70 e tra le più diffuse troviamo per esempio la licenza GPL da alcune sue versioni alternative quali la GPL cioè la Ferro GPL, la LGPL, la licenza MIT, la licenza PACI e così via. Esaminiamo prima di tutto la licenza GPL. Questa è la prima licenza che è stata creata sotto la free software foundation quindi di Stolman è considerata una licenza forte, infatti è una licenza molto restrittiva perché applica il concetto di copyleft. Copyleft sta ad indicare il fatto che bisogna far rispettare le quattro libertà a cascata. Che cosa significa? Significa che se io prendo un software che sottostà alla licenza GPL e lo modifico, per ridistribuirlo devo necessariamente distribuirlo con licenza ancora GPL. Questo va a preservare tutto il percorso che c'è stato di varie persone che si sono susseguite e che fino a quel momento hanno messo a disposizione la propria creatività e il proprio tempo per lavorare a quel progetto. E quindi far sì sia di preservare in un certo qual senso l'aspetto più intellettuale di coloro che ci hanno lavorato, sia di evitare che quel lavoro gratuito venga sostanzialmente utilizzato all'interno di software proprietario. A differenza però della versione alternativa quale la ferro GPL, la GPL non prevede che se il software modificato viene utilizzato per offrire servizi web, tipo di software as a service, quindi attraverso il cloud, debba necessariamente essere pubblicato. Questa cosa è vera soltanto per la GPL. Infatti vediamo una tabella riassuntiva giusto delle principali licenze libere che oggi esistono. Appunto la GPL quindi prevede questo obbligo della condivisione su rete, abbiamo la licenza MIT che è la più permissiva tra le varie licenze che oggi esistono, la licenza APACI per esempio che è una licenza molto permissiva e che però prevede una clausola aggiuntiva rispetto alle altre quale quella della protezione sul copyright. Infatti prevede che il codice licenziato con questo tipo di licenza debba prevedere una clausola sul copyright all'interno per proteggere la proprietà intellettuale degli autori che vi hanno lavorato fino a quel momento e quindi evitare inutili dispute legali. Quindi ci sono effettivamente molte ragioni per cui utilizzare il software libero, il software open source, tra i quali sicuramente la prima è il fatto che è gratuito. Questo aspetto è importante soprattutto nelle piccole micro imprese, nella pubblica amministrazione per esempio, è possibile apportare modifiche e il flusso di sviluppo soprattutto è molto più veloce grazie al supporto della community. Infatti uno degli aspetti fondamentali del mondo dell'open source è proprio le potenzialità che risiedono nella community che è sempre molto attiva sul web. E addirittura con il software open source si può anche guadagnare. Questa cosa è vera perché tramite il software open source si può guadagnare in vari modi, attraverso donazioni per esempio, oppure distribuendo per esempio tutorial sull'utilizzo di un software ovviamente a pagamento o nella migliore delle ipotesi può accadere che una certa azienda ritenga un software libero particolarmente utile, particolarmente interessante e decida sostanzialmente di sponsorizzare l'autore o gli autori affinché questi possano continuare a lavorarci dedicandosi a tempo pieno allo sviluppo di quel software che può essere appunto utile per l'azienda stessa. E questo è esattamente quello che è accaduto ai due creatori, al creatore di Kibio S che è un sistema operativo real time quale Giovanni Di Sirio, quindi italiano e anche ad un altro italiano che è il creatore di Redis che oggi è uno dei DBMS NoSQL più diffusi potremmo dire al mondo che è Salvatore Sanfilippo il quale pure è stato sponsorizzato. E quindi effettivamente saranno sicuramente casi isolati però esistono. Di software open source, i libri che noi utilizziamo probabilmente ne utilizziamo tantissimi anche senza rendercene effettivamente conto il primo fra tutti è Python Python è uno dei linguaggi di programmazione oggi più utilizzati ed è appunto open source ma abbiamo anche Wireshark, Blender, WordPress, Git, Eclipse e ovviamente tutte le distribuzioni di Linux. dell'importanza dell'open source ne parla addirittura anche la Commissione Europea tant'è vero che di recente ha rilasciato un report che sottolinea il fatto che nel 2018 le aziende in Europa hanno sostanzialmente fatto una serie di investimenti pari ad un miliardo di euro in software open source e questa cosa ha generato un guadagno stimato tra i 65 e i 95 miliardi quindi veramente cifre notevoli e questo appunto fa capire quanto in realtà diciamo muoversi sempre di più in questa direzione possa essere una mossa vantaggiosa. Infatti sono state create più di 600 nuove start-up e le piccole e micro imprese hanno detto che appunto il loro ricavato è stato attribuibile principalmente all'open source software e anche hardware. In Italia ci stiamo muovendo un pochino in questa direzione nel senso che diciamo c'è un piano triennale che va diciamo di triennio in triennio che sta apportando delle modifiche al codice dell'amministrazione digitale e che in particolar modo nel triennio del 2021-2023 ha imposto alle pubbliche amministrazioni italiane di preferire l'utilizzo di software open source. Quindi l'idea era quella che le pubbliche amministrazioni devono fare una valutazione comparativa quando devono utilizzare un software e devono preferire o software open source oppure software di riuso quindi già utilizzate eventualmente da altre PA. Inoltre lo sviluppo di nuovo software o l'acquisto addirittura di software proprietario deve essere largamente motivato e tutto il software che viene utilizzato deve essere poi pubblicato con tutto il codice sorgente ovviamente sulla piattaforma, sul repository di Developers Italy quindi deve essere tutto accessibile. E quindi abbiamo capito un pochino diciamo che di software open source ce ne sono tante forme, tanti utilizzi e quindi perché comunque è importante che si continui a parlare si continui a diffondere questa ideologia perché prima di tutto garantisce una serie di libertà e di controllo per gli utenti perché come disse Stuhlman se non è l'utente a controllare il software è il software che controlla l'utente e quindi è importante diciamo avere l'accesso e sapere effettivamente prima di tutto cosa si sta accettando quando si utilizza un software e soprattutto avere anche la possibilità di vedere effettivamente all'interno che cosa c'è, come funziona anche semplicemente per capirlo e riutilizzarlo. Abbiamo quindi l'aspetto ovviamente della safety e della security un miglioramento continuo collaborativo risparmio sui costi e così via. E di tutto questo noi si occupiamo qui nella nostra associazione del NALUG che oggi appunto si è occupata della organizzazione di questa giornata il NALUG sta appunto per Napoli Linux User Group è uno dei tanti Lug italiani che esistono abbastanza popolato potremmo dire è stato fondato ufficialmente nel 2007 ma in realtà questa associazione è già attiva dal 98 principalmente sulle sedi di ingegneria della Federico II quindi nella zona di Piazza di Tecchio e riunisce ovviamente utenti appassionati di informatica di tecnologie libere e cerca di fare diffusione appunto sul software libero tale divulgazione la facciamo attraverso le nostre riunioni didattiche e associative e tramite i nostri eventi principali che sono appunto il Linux Day l'Open Hardware Day che Linux Day si tiene ogni anno tra il terzo e il quarto sabato di ottobre non soltanto qui ma in tutti i lughi italiani anche online invece l'Open Hardware Day noi lo celebramo intorno ai mesi di aprile e maggio solitamente sempre ogni anno potete trovare comunque tutte queste informazioni sui nostri canali perché pubblichiamo prontamente tutto e facciamo ovviamente condivisione di conoscenze e competenze pubblichiamo anche annunci di lavoro quindi anche questo può essere un aspetto interessante e soprattutto facciamo Help Desk l'Help Desk lo facciamo online attivamente praticamente 24 ore su 24 tramite i nostri canali Telegram che sono i nostri soci sapranno che ci sono tre canali Telegram sempre molto attivi dove ci sono persone che fanno domande qualcuno che dà risposte chi condivide semplicemente delle novità delle news che conosce e questi sono appunto alcuni dei nostri eventi che sono stati organizzati nel corso degli ultimi anni per tutti i nostri riferimenti potete o diciamo seguirci sulle nostre pagine social anche su YouTube dove pubblichiamo le nostre diciamo le registrazioni delle riunioni e appunto degli eventi se volete iscriverci o comunque diciamo conoscere qualcosa di più su di noi potete far riferimento al nostro sito oppure potete contattarci via mail inoltre c'è questo canale Telegram che è l'unico aperto anche ai non soci se poi vi iscrivete e diventate soci avrete anche l'accesso agli altri tre canali Telegram appunto molto attivi come vi dicevo prima quindi io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata salve a tutti allora vorrei invitare qui a parlarci di loro l'azienda uno dei nostri sponsor che è Internet e Idee una breve presentazione e vi ringrazio per averci sponsorizzato in questa giornata buongiorno ben trovati a tutti prima di iniziare la presentazione dell'azienda ci terrei di cuore a ringraziare l'associazione Nalug per l'impegno di aver organizzato insomma questo splendido evento oggi io mi presento sono Marika e mi occupo di ricerca e selezione del personale proprio in Internet e Idee e oggi insieme al collega Fabio Pucci Senior System Admin vi racconteremo un po' della nostra realtà aziendale il telecomando così passo magari in autonomia per raccontarvi quindi un po' di noi mi piacerebbe partire proprio dalla storia quindi come siamo nati e come siamo evoluti negli anni vi racconteremo pure quelli che sono i servizi che l'azienda ad oggi offre i settori di mercato in cui l'azienda è presente le partnership di cui l'azienda diciamo ad oggi gode e le certificazioni che ha conseguito per poi raccontarvi proprio come Internet e Idee si approccia al mondo dell'open source quindi andando in ordine la storia di Internet e Idee inizia proprio nel 1998 quando il nostro amministratore decise di voler realizzare la sua visione del mondo IT e per farlo inizio proprio dallo sviluppo di applicativi web innovativi per l'epoca quindi si tratta proprio di siti per diciamo e-commerce e per l'epoca diciamo era abbastanza innovativa come idea negli anni poi l'azienda cresce si evolve e si trasforma da web agency a software house ad oggi quindi Internet e Idee ha una propria forma più strutturata aziendale quindi abbiamo una popolazione aziendale composta da 200 collaboratori tra dipendenti e collaboratori esterni abbiamo una popolazione sicuramente giovane con 39 anni di età media e tra i nostri dipendenti c'è un 80% di contratti a tempo indeterminato quindi un'azienda con solide radici che stima di concludere il 2024 con un fatturato di 10 milioni inoltre i risultati che abbiamo raggiunto negli anni ci hanno permesso di maturare e questo ci ha permesso di diventare anche PMI innovativa noi siamo un'azienda di origine calabrese quindi abbiamo sempre creduto e investito nel territorio abbiamo scelto di lasciare proprio a Cosenza la nostra città d'origine la nostra sede centrale e legale ma scegliendo di investire nel territorio abbiamo molto puntato sul sud di fatti abbiamo avverto proprio di recente un polo operativo a Bari abbiamo una sede operativa a Napoli nel centro direzionale che sono sicura che tutti conoscete e abbiamo scelto proprio il centro direzionale perché come ben immaginate è proprio il cuore del business campano inoltre Napoli per noi è una scelta molto strategica di fatti abbiamo una partnership con l'Università Federico II di Napoli dalla quale è nata anche un nostro spin-off TAME AI che è un connubio quindi tra le eccellenze delle università partenopea e le tecnologie riguardanti proprio l'intelligenza artificiale e la cyber security abbiamo poi degli uffici commerciali a Milano e a Bologna che ci permettono sicuramente di gestire al meglio il business nel nord Italia abbiamo anche una start-up a Tirana in Albania che ci permette quindi di essere presenti anche nel mercato dei Balcani e non ci fermiamo qui perché prossimamente prevediamo anche di aprire una sede a Roma per quanto riguarda le nostre soluzioni di business come vi dicevo quindi l'azienda si è evoluta fino a diventare una software house pertanto il nostro core business è proprio quello dello sviluppo software come azienda quindi noi siamo un'azienda di consulenza informatica ciò significa che rispondiamo a delle esigenze che provengono dal mercato esterno e quindi seguiamo tutte le fasi che riguardano il processo di sviluppo software quindi passando dalla progettazione proprio del software fino all'integrazione magari di sistemi anche al passaggio del quality assurance e del testing e ci stiamo anche stradando in campi innovativi come la cyber security l'intelligenza artificiale machine learning e big data questa expertise quindi abbastanza variegata ci permette di essere presenti su diversi settori di mercato anche molto diversi fra di loro quindi passando dalla pubblica amministrazione per i commerci di lusso per il settore delle energie utilities e telco e tutti gli altri appunto presenti sulla slide negli anni però non ci siamo occupati soltanto di esternalizzare un servizio ma abbiamo anche creato un prodotto proprietario che è GECO un software che si occupa proprio della gestione del recupero dei crediti Internet Day ha un team ad oggi dedicato che si occupa della manutenzione e dello sviluppo del software come vi anticipavo quindi l'azienda negli anni ha instaurato importanti partnership che ci hanno permesso sicuramente di potenziare la nostra presenza sul mercato ma anche di accrescere le competenze tecniche dei nostri team tecnici quindi per fare un esempio pratico l'area security e sistemi di Internet Day ha seguito un percorso di formazione e certificazione barracuda quindi rafforzando proprio le loro competenze nell'ambito delle mail protection ma come è possibile notare questo percorso di formazione e certificazione riguarda anche altre aree dell'azienda quindi la quality assurance lo sviluppo software e così via in conclusione una caratteristica proprio del DNA di Internet Day è la ricerca dei massimi standard in termini di qualità e in questo senso l'azienda ha conseguito diverse certificazioni che ad oggi permettono proprio di avere degli ottimi risultati in termini di qualità e sicurezza dei processi aziendali ma anche di parità di genere all'interno della popolazione aziendale e infine anche una sicurezza e un impegno nella tutela ambientale lascio la parola a Fabio Pucci che ci racconterà proprio come Internet Day si approccia il mondo dell'open source ciao buongiorno vado avanti con la prima slide come si approccia Internet Day all'open source di base il concetto è che il nostro CEO fondatore della società ovviamente è anche esso è stato un sistemista quindi ha lavorato da sempre con tecnologie aperte basate sul mondo Linux e questa cosa l'ha portata avanti come nella nostra azienda che è un'azienda di media grandezza per il mercato italiano abbiamo un'intera area dedicata al reparto sistemi è un'area dedicata al reparto security che hanno delle competenze molto diciamo verticalizzate sulla parte open source e all'interno dell'azienda spesso facciamo anche una fase di ricerca su soluzioni che possano utilizzare sistemi aperti perché crediamo nella robustezza del software crediamo nella peer review del software perché sapete meglio di me che del software aperto spesso e volentieri è a parte la sicurezza ma le falle vengono corrette spesso prima rispetto proprio per l'aiuto della community e poi parliamoci chiaro molte soluzioni che girano nell'universo informatico di base adesso sono fondate su software di tipo open o se non è floss comunque è software che ha diciamo che attinge anche a quel tipo di tecnologia quindi nella nostra area ad esempio utilizziamo solo roba legata al mondo linux quando è possibile internamente utilizziamo soluzioni aziendali che non siano legate a soluzioni closet o soluzioni che hanno comunque diciamo che ti ingabbiano in situazioni con licenze bloccanti qui faccio una in questa slide vediamo un breve riepilogo di alcune tecnologie che utilizziamo che sono utilizzate o sono state utilizzate al centro il percorso di transizione quello che ha messo una transizione dei sistemi è perché proprio per una questione di continua ricerca sulla parte server siamo partiti con l'utilizzo ad esempio di cendos diverso tempo fa diversi anni fa poi cendos è andato a morire molti di voi sapranno e quindi abbiamo continuato a migrare prima verso l'oklinux abbiamo utilizzato pensuse come sperimentazione su alcune piattaforme interne dopodiché ultimamente la parte infrastrutturale è stata riprogettata totalmente per funzionare con sistemi Debian e Ubuntu server per quanto riguarda l'utilizzo di tanti altri prodotti open è un po' meno open come ad esempio può essere SNGINX è stata acquisita da F5 tentiamo ad utilizzare dove possibile sempre soluzioni che se non totalmente open magari hanno una parte community ad esempio noi utilizziamo molto Proxmox come sui cluster di virtualizzazione sia per la parte di virtual machine ma anche per la containerizzazione dove non è possibile ci appoggiamo a container docker prima adesso stiamo migrando su podman come soluzioni di containerizzazione e anche come software interno diciamo lato client sulle nostre macchine ad esempio utilizziamo adesso ci siamo più o meno uniformati su distro fedora ma comunque ad esempio nella nostra area particolarmente la scelta è un po' più libera quindi ho un collega ad esempio che lavora con arclinux ma diciamo che in base alle proprie competenze uno è libero di utilizzare la distro che preferisce insomma dove voglio arrivare con questo discorso tutto il flusso di lavoro che utilizziamo in azienda e avendo noi un'area tecnica dedicata ci permette di non bloccarci a partner esterni che vengono da noi e ci danno consulenza su che tipo di soluzioni applicare ma possiamo diciamo siamo liberi di abbiamo la forza di decidere noi stessi cosa utilizzare all'interno e con quali caratteristiche progettare diciamo tutta l'infrastruttura quindi penso che sia abbastanza chiaro grazie allora ringrazio ancora internet e idee e chiamo un altro sponsor che è qui con noi che è unitiva quindi spero che possiate parlarci un po' di voi grazie per averci sponsorizzato buongiorno a tutti sono Rosario Savarese il CEO di Unitiva innanzitutto grazie al Nalug per questa opportunità per l'invito noi siamo diciamo ormai storici sponsor del Nalug il primo Nalug che abbiamo sponsorizzato è nel 2007 quindi il primo anno del Nalug è sempre un piacere poter contribuire diciamo all'organizzazione di questo evento due parole su Unitiva Unitiva è una software house ho premuto un tasto no ok Unitiva è una software house che è la storia di un cambiamento è la storia di un'evoluzione aziendale perché nasce come spin off del CNR oltre 15 anni fa lavorando su un progetto appunto open source poi si è evoluta sotto un altro nome al tempo ci chiamavamo Abstract qualcuno si ricorderà di questo nome che poi nel 2015 abbiamo ceduto a Luxottica e abbiamo continuato questo nostro processo di evoluzione ribrandizzandoci come Unitiva ma mantenendo sempre solidi gli stessi principi quindi un forte attaccamento a quello che è la divulgazione della conoscenza e l'utilizzo di tecnologie open source scusate ecco qua Unitiva fa della sua passione della passione delle persone che ci lavorano il suo lavoro si occupa da sempre di progetti di digital transformation basati appunto su tecnologie open source abbiamo nel nostro percorso praticamente utilizzato probabilmente decine di framework open source non solo basati su Python anche se quella è un po' la nostra diciamo la nostra predilezione usiamo Python da sempre praticamente però nel tempo abbiamo abbiamo diciamo ci siamo ampliati essendoci ampliati sia come team chiaramente ci siamo ampliati anche dal punto di vista degli stack tecnologici da un po' di anni ci occupiamo in particolare di un framework open source che è Odoo all'epoca OpenIRP ha cambiato nome anche questo open source è un framework che appunto serve per sviluppare soluzioni IRP CRM noi diciamo abbiamo come obiettivo quello di essere sempre al passo con i tempi anzi tendenzialmente la nostra volontà è sempre quella di anticipare un po' i tempi quindi anche nelle nostre soluzioni cerchiamo sempre di proiettarci un pochettino più avanti è una piccola dimostrazione la vedrete con il talk che ci sarà dopo crediamo in un valore unico che è quello delle persone quindi il mio obiettivo è da sempre quello di investire nelle persone soprattutto nei ragazzi nei giovani tant'è vero che l'età media aziendale è molto bassa diciamo siamo probabilmente sotto i 30 anni questo secondo me è un valore enorme perché riesce a mettere diciamo appunto la massima espressività e la massima creatività dei giovani insieme all'esperienza di persone che lavorano in questo settore da oltre 15 anni e questo per me credo sia uno dei punti di forza della nostra azienda perché l'open source l'open source perché da sempre appunto crediamo nel principio della condivisione della conoscenza per noi è un punto di forza sapere che dietro quello che facciamo ci sono sempre community di professionisti che collaborano che contribuiscono e che spesso ci supportano o ai quali noi possiamo dare supporto quindi questo per me è un ulteriore valore aggiunto che solo in questo contesto si riesce ad avere l'altro aspetto chiaramente è la facilità con la quale poi queste piattaforme questi framework si riescono anche a manipolare il nostro lavoro è a metà tra la parte diciamo tecnica molto spinta di sviluppo e la parte di consulenza noi spesso guidiamo i nostri clienti verso delle soluzioni quindi offriamo una consulenza gestionale ma anche poi tecnica che ci permette di customizzare i framework secondo le necessità dei nostri clienti e questo attraverso le piattaforme open source chiaramente viene molto molto facile e l'altro aspetto diciamo che ci caratterizza è appunto quello di diciamo del system integration noi facciamo tantissima system integration e questo chiaramente anche questo è un aspetto molto agevolato quando si usano tecnologie open source qualche progettino di successo diciamo degli ultimi anni diciamo che noi spaziamo molto quindi il nostro lavoro si concentra principalmente tra big corporate e settore pubblico nel settore pubblico la maggior parte dei nostri clienti sono università e centri di ricerca quindi ne vedete giusto qualcuno c'è l'università di Bologna l'università di Udine il TGEM l'ISPRA che sono enti di ricerca diciamo di grievo nazionale e abbiamo anche una collaborazione con l'USID che è un ente governativo americano che ormai è il nostro cliente da oltre dieci anni e poi alcune vabbè una grossa associazione croce rossa italiana per la quale diciamo abbiamo sviluppato tutta la piattaforma di gestione diciamo dell'associazione e alcuni tra all core rinfrata e l'USB che sono invece altre aziende corpolette abbastanza importanti il nostro motto è sempre quello di affrontare queste sfide con la passione che abbiamo sempre messo per risolvere i problemi cioè a noi piace risolvere i problemi dalle persone quindi diciamo questo è proprio la nostra passione quello che ultimamente stiamo incominciando sul quale stiamo incominciando a lavorare è quella di introdurre l'AI all'interno dei software che sviluppiamo quindi abbiamo diversi stream diversi progetti sui quali stiamo lavorando proprio per far sì che questa diciamo integrazione dell'intelligenza artificiale non sia un'integrazione fine a se stessa ma sia un'integrazione che abbia come obiettivo quello di risolvere determinate problematiche il motivo per cui stiamo qui è principalmente quello di diciamo come ogni anno ci capita quello di intercettare persone che sono appassionate del mondo dell'IT dell'open source e soprattutto che abbiano voglia di confrontarsi e crescere da questo punto di vista quindi se ci sono ragazzi interessati dopo ci possiamo fare due chiacchiere allo stand e vi racconto ancora più nel dettaglio quello che facciamo grazie a tutti grazie ancora a voi di Unitiva allora adesso chiamo Vincenzo Cosentino Ivan Trocino e Samuel Scuderi che ci parleranno di containerizzazione open source con Docker e Podman buongiorno a tutti sono Vincenzo Cosentino sistemista presso internet idee insieme ai colleghi Ivan Trocino e Samuel Scuderi che fanno parte del reparto security abbiamo deciso di indirizzare il nostro speech verso una delle tecnologie più utilizzate negli ultimi anni in ambito sistemistico e DevOps che è la containerizzazione e nello specifico fare un paragone tra due degli strumenti più utilizzati Docker e Podman il nostro speech sarà prevalentemente introduttivo mirato anche a fare una comparativa tra i due tool analizzando anche degli aspetti di sicurezza partiamo subito nel definire che cos'è un container nella vita reale un container è un contenitore di merce materiale che viene solitamente trasportato da una parte all'altra del mondo isolato da altri container normalmente trasportati all'interno di una nave porta container esattamente come nella vita reale nel mondo informatico un container è un'unità software completamente isolata dalle altre che contiene al suo interno tutto ciò che è necessario affinché questa unità possa funzionare quindi il codice l'ambiente runtime librerie ed eventuali dipendenze che il nostro progetto sta portando dietro ciò porta a una serie di vantaggi che noi abbiamo schematizzato sostanzialmente in cinque punti portabilità scalabilità deploy semplificati e velocizzati nonché continuità di servizio e sicurezza come anticipavo poco fa sicuramente la portabilità è il primo vantaggio che noi riteniamo valido nel mondo della containerizzazione proprio perché un container offre un livello di astrazione tale dal sistema operativo host che ci consente di spostare facilmente un container da un sistema a un altro è un grande vantaggio soprattutto per chi è sistemista come me perché vanno via si fanno fuori tonnellate di problemi che tendenzialmente si hanno quando si migrano progetti su un'altra macchina nel senso un esempio semplice è un progetto web lo devo spostare su un altro server non containerizzato cioè un progetto web non containerizzato non containerizzato ovviamente devo assicurarmi che sulla nuova macchina ospitante tutte le librerie eventuali software moduli PHP se è un progetto web basato su PHP siano presenti onde evitare di avere problemi nel caso di un container invece tutta questa complessità sparisce l'unica cosa che mi serve ovviamente è far sì che sulla nuova macchina ospitante ci siano gli strumenti che mi consentono di far funzionare il mio container per quanto riguarda la scalabilità abbiamo sicuramente due vantaggi una è la scalabilità orizzontale che offre il mondo della containerizzazione e l'altra è geografica possiamo applicare facilmente meccanismi scale in scale out quindi aumentare o ridurre le risorse accendere o spegnere eventuali container in infrastrutture un pochettino più complesse al momento del bisogno e soprattutto in un mondo che va sempre più verso il cloud e sappiamo benissimo che il cloud ha un costo ottimizzare le risorse per i nostri progetti è di sicuro un vantaggio un altro aspetto che abbiamo voluto mettere in luce per quanto riguarda la scalabilità è proprio la possibilità o comunque la profonda attitudine dei container che hanno i container per applicativi che lavorano a microservizi nel senso specifico cioè un esempio specifico è io posso avere un'applicazione a microservizi in quel momento un modulo di quell'applicazione a microservizi se non mi serve io quel container lo posso tranquillamente spegnere e continuerà a funzionare il mio servizio e accenderlo al momento opportuno per quanto riguarda la semplicità dei deploy è evidente perché nel momento in cui devo andare comunque ad aggiornare un'applicazione quindi in qualche modo si lega anche con la slide successiva posso applicare una serie di vantaggi quale ad esempio una tecnica del blog green ovvero se devo aggiornare un'applicazione posso clonare il container aggiornare il container clonato verificare che sia tutto ok spegnere il container principale spostarmi su quello clonato in ogni caso rispetto a una macchina virtuale un container ha sicuramente dei tempi di avvio molto più rapidi anche perché non c'è la necessità come vedremo più avanti di un sistema operativo anche ospite ospitante una VM a tempi di avvio molto più più elevati della continuità in qualche modo ne ho parlato poco fa proprio per quanto riguarda gli aggiornamenti sul comparto sicurezza io da sistemista ritengo che comunque i container siano sicuri almeno quanto una macchina virtuale ma più avanti i colleghi ci deranno i risultati delle loro analisi sicuramente un container offre quel livello di isolamento tale che ci consente la giusta sicurezza per i nostri progetti è proprio perché ho nominato più volte il concetto di macchina virtuale già in queste prime slide vorrei condividere con voi la differenza tra lo stack che c'è tra una macchina virtuale ed un container come possiamo vedere entrambi le soluzioni hanno comunque bisogno di un sistema operativo ospitante l'OS che sta alla base dello stack ma la prima differenza ce l'abbiamo già al secondo livello nel caso di una macchina virtuale noi abbiamo bisogno di un hypervisor che può essere un VMware di turno se vogliamo parlare di soluzioni proprietarie o virtual box o comunque altre soluzioni come Proxmox nel caso di un container invece noi abbiamo bisogno ovviamente di un motore che di fatto lo possiamo definire l'alternativa all'hypervisor nel modo del container ma la differenza fondamentale ce l'abbiamo all'interno poi di ciò che ci interessa ovvero dei nostri servizi nella macchina virtuale prima di poter ospitare le nostre librerie dipendenze e di conseguenza la nostra applicazione abbiamo bisogno di un sistema operativo guest quindi di conseguenza quando noi allestiamo una macchina virtuale installiamo anche un sistema operativo all'interno della macchina virtuale e poi ci occupiamo della nostra applicazione ciò ovviamente determina un aumento di tempi dunque costi nonché anche di potenziali vulnerabilità nel caso del container invece noi possiamo alzare il nostro container già integrando all'interno librerie le dipendenze tutto ciò di cui vi parlavo prima e la nostra applicazione qualcuno a questo punto potrebbe già domandarsi sì ma la mia applicazione è un progetto web ha bisogno magari di Nginx di un MySQL di turno o qualsiasi altra cosa come faccio a far girare MySQL o comunque altri servizi se non ho un sistema operativo guest a differenza della macchina virtuale in realtà l'isolamento che offre un container c'è ma ha una condivisione col sistema operativo ospitante ovvero questo container nel momento in cui è avviato sta condividendo il kernel col sistema operativo che lo sta ospitando tra i due strumenti più utilizzati per fare containerizzazione o per comunque gestire le immagini dei nostri container abbiamo Docker e Podman entrambe le soluzioni fondamentalmente hanno una licenza Apache 2 Docker allo stato attuale diciamo è il leader del settore anche perché è stato il primo ma Podman si sta facendo molto largo nel settore anche perché comunque è abbracciato da una comunità molto nutrita ad esempio anche Fedora gli utenti di Fedora preferiscono utilizzare molto Podman per una serie di motivi che più avanti scopriremo come funziona Docker io ovviamente ho fatto un esempio molto basic che ci consente di partire da quella che è un'immagine fino ad arrivare a un container per fare un piccolo passo indietro possiamo definire l'immagine un pochettino come se fosse il progetto della nostra casa che l'architetto l'ingegnere di turno ci ha realizzato e poi noi l'abbiamo dato in pasto a un'azienda di costruzioni che l'ha trasformato in una realtà ecco un container fondamentalmente la trasformazione di un'immagine come vediamo possono essere reperite da qualche parte come scopriremo avanti possono essere anche realizzate da noi e trasformare quell'immagine in qualche cosa che effettivamente è funzionante supponiamo riprendendo l'esempio di prima che io voglia mettere su un mio progetto web quindi magari un wordpress ho bisogno di un server lamp magari anche con un wordpress preinstallato di dentro dove posso trovare l'immagine che risponde ai miei requisiti ci sono una serie di repository ovviamente il più noto è Docker Hub che come vedremo più avanti non viene utilizzato unicamente per Docker ma anche per Podman ma oltre a Docker Hub che è sicuramente uno dei repository più utilizzati ce ne sono altri come Amazon SDR Google Container Registry fondamentalmente nel momento in cui noi abbiamo trovato l'immagine che risponde ai nostri requisiti ci sono una serie di comandi molto basic da lanciare che ci consentono prima di scaricare quell'immagine e poi di avviare il nostro container ho riportato una serie di comandi basilari come DockerPS che ci consente di verificare i container che allo stato attuale sono in esecuzione o comunque come si vede da quest'ultimo comando qui possiamo anche decidere di avviare il nostro container con una scella interattiva nel caso in cui non sia presente nel Docker Hub o comunque in altri repository un'immagine che fa al caso nostro comunque se abbiamo voglia di smanettare un pochettino è creare da zero ciò che a noi serve noi comunque possiamo farlo possiamo farlo utilizzando il cosiddetto Dockerfile che di fatto è un file di testo che contiene una serie di istruzioni possiamo vederlo come se fosse quasi un linguaggio di scripting ma veramente ad altissimo livello come si può vedere dall'esempio nel senso che è semplicissimo alla portata di tutti dove noi riportiamo una serie di istruzioni per far sì che nel momento in cui l'immagine venga avviata venga composta esattamente come vogliamo noi nell'esempio che è riportato qua per esempio si parte da un'immagine base di Ubuntu dopodiché con il comando run facciamo sì che nel momento in cui viene avviato il container vengano aggiornati i pacchetti installato in Gnx vabbè dato che è un caso nel caso in esempio un server web esponiamo la porta 80 e avviamo Gnx giusto una piccola curiosità perché si chiede perché dopo l'avvio in Gnx c'è demon off è necessario affinché il container continui a funzionare che il processo sia sempre in modalità foreground quindi di conseguenza non deve essere demonizzato in Gnx nel caso specifico come abbiamo visto per Docker anche per Podman è possibile utilizzare dei repository pubblici non ci sono problemi ad utilizzare Docker Hub e abbiamo la possibilità di definire con un file di configurazione eventuali altri repository sul quale andare a cercare le nostre immagini per quanto riguarda il download dell'immagine e il run del container come potete vedere i comandi sono assolutamente analoghi a quelli di Docker l'unica differenza ovviamente è il comando principale che è Podman e già qua mi sento di mettere in luce quello che poi comunque scopriremo più avanti ovvero che la prima vera differenza tra Docker e Podman è che Docker è rootless quindi non richiedendo permessi di amministrazione anche il singolo utente della macchina può avviare e gestire i suoi container senza avere più permessi del necessario e questi comandi sono presenti nella slide in realtà valgono sia per Podman che per Docker come dicevo prima cambia soltanto il modo in cui li invochiamo e possono essere utili in diverse fasi poi magari vediamo di condividere le slide in qualche modo ma comunque per entrambi i casi stiamo parlando di un discorso introduttivo al mondo della containerizzazione in entrambi i casi comunque online c'è una tonnellata di materiale la documentazione fiocca quali sono quindi oltre a quello che abbiamo visto le differenze reali tra Docker e Podman come anticipato già la prima differenza è dal punto di vista architetturale mentre Docker ha un'architettura client server ha bisogno di un suo demone oltre a richiedere i permessi privilegi di root potremmo aggiungere l'utente specifico della macchina al gruppo Docker ma comunque servirebbe a poco la differenza reale con Podman è che Podman come ho anticipato prima è rootless quindi sicuramente mi sento di dire che questo schema architetturale ci mette sicuramente in una situazione di maggiore sicurezza rispetto a Docker per quanto riguarda la compatibilità non c'è nessun problema sia utilizzare Docker che Podman entrambe le soluzioni utilizzano il formato CI e questo è sicuramente un vantaggio perché io potrei decidere di iniziare a lavorare con dei container utilizzando Docker però dopo cambio idea decido di passare a Podman sicuramente non dovrò andare a fare modifiche alle mie immagini ai miei container ovviamente anche viceversa per chi per qualche motivo decide di utilizzare Docker al posto di Podman supporto ai pod piccola premessa che cos'è un pod io finora ho fatto esempi nel mio discorso di singoli container perché comunque agli inizi è difficile comunque si vada a fare soluzioni distribuite su più nodi un pod in realtà è una rete di nodi e di container che fra loro condividono delle risorse comuni queste risorse comuni possono essere un archivio un volume una rete un db qualsiasi altra cosa di conseguenza è evidente che il supporto ai pod è un qualche cosa di fondamentale soprattutto quando lavoriamo con applicazioni molto grandi comunque in ambito enterprise entrambe le soluzioni in qualche modo sono compatibili con i pod mentre Podman li supporta nativamente docker non li supporta nativamente nel senso che docker consente di gestire i singoli container in ogni caso questo almeno in ambito enterprise non è un problema perché una soluzione arriva da Kubernetes ovvero un orchestratore che si occupa di gestire più nodi che possono essere distribuiti in varie parti del del mondo o comunque in altri data center se vogliamo fare delle prove in casa sicuramente Podman per quanto riguarda i pod ci consente di agire con più semplicità perché non dobbiamo tirare su anche un'istanza di Kubernetes e Kubernetes ovviamente come ho detto poco fa è un orchestratore docker in realtà ha un suo orchestratore integrato docker-sworn che però almeno noi ma comunque in molti in ambito enterprise non lo utilizziamo di conseguenza molte volte viene quasi sempre viene tutto delegato a Kubernetes perfettamente compatibile anche con con Podman senza alcun problema il docker-compose è un qualche cosa è uno strumento che ci consente di gestire tramite un linguaggio YAML un linguaggio che ormai è ampiamente utilizzato anche per chi lavora con Ansible o comunque con altre soluzioni compatibili con questo formato che ci consente di definire e gestire le nostre applicazioni che hanno bisogno di più container docker-compose come si intuisce dal nome stesso nasce proprio da docker però in ogni caso Podman poiché quando 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 è nato doveva offrire un'alternativa a docker che fosse perfettamente compatibile e che rispondesse alle necessità di chiunque lavora con la containerizzazione non non ha problemi a gestirlo anche se comunque ci sono alcune limitazioni che magari dopo possiamo approfondire per quanto riguarda comunque l'integrazione con i sistemi operativi che entrambe le soluzioni non hanno nessun problema sono pacchettizzate e disponibili per la maggior parte delle distribuzioni nonché anche per sistemi operativi proprietari per chi preferisce o comunque alla necessità di utilizzarli poco fa vi parlavo delle risorse che possono essere condivise tra i container al di là di un volume o di una scheda di rete che c'è bisogno che ha necessità di essere condivisa tra più container e tra di loro io comunque potrei avere la necessità di montare un file system sul mio container quindi devo capire come farlo comunque soprattutto se posso farlo proprio in virtù di quell'isolamento di cui parlavamo a inizio speech in entrambe le soluzioni ovviamente per ovvi motivi è possibile montare dei volumi e delle reti senza alcun problema al di là di queste differenze prettamente sistemistiche ci siamo chiesti e spero che qualcuno tra i presenti se lo sia chiesto ok abbiamo visto quali sono le differenze abbiamo già capito che uno è rootless l'altro no vorrei capire però effettivamente quale tra le due soluzioni è la più sicura per i miei progetti tenendo comunque in considerazione come sappiamo tutti il computer più sicuro è quello non connesso a internet eppure lì avrei qualche dubbio quindi passo la parola collega Ivan Trocino del reparto cyber security che ha analizzato un po' la sicurezza di docker buongiorno a tutti sono Ivan Trocino cyber security analyst in internet idee e oggi parleremo di un tema cruciale nella sicurezza informatica e nello specifico dei container docker il container breakout il container breakout si verifica quando un attaccante riesce a superare i vincoli imposti dei container e accedere al sistema sottostante e questo rappresenta una grave vulnerabilità in quanto permette di accedere a tutti i file del sistema sottostante che ospita i container e quindi va a minare il valore fornito dai container possibili tecnici di breakout sono l'accesso al docker socket che quindi permette di eseguire vari comandi del daemone docker ad esempio l'avvio dei container oppure l'avvio di immagini e una volta che un attaccante ottiene l'accesso al container uno degli strumenti uno degli strumenti che si utilizza per numerare le potenziali vulnerabilità del container è l'impis l'impis è uno strumento open source che appunto si occupa dell'escalation dei privilegi quindi viene utilizzato sia per i container dock oppure anche quando si accede a una normale macchina e quindi viene utilizzato per fare un'enumerazione di tutte le configurazioni errate vulnerabilità che possono permettere l'escalation dei privilegi tra questi sono i permessi i permessi sui file i servizi attivi o le variabili d'ambiente e nello specifico nei container docker nei container docker va a minare diciamo tutte le potenziali vulnerabilità che possono essere la verifica dei permessi delle configurazioni dei file la presenza del docker socket il controllo delle variabili d'ambiente l'analisi dei servizi attivi il controllo dei cron jobs quindi se ci sono dei task che sono periodici e informazioni su kernel e sul sistema nello specifico fra le varie tecniche di container breakout si ha l'accesso al docker socket che quindi permette all'attaccante di effettuare vari comandi con il demone docker è un metodo per vedere se si ha l'accessibilità dal docker socket dal container è l'esempio che vedete in figura è un possibile comando che viene utilizzato per fare un container breakout è il seguente cioè consiste nella creazione di un nuovo container montando un'immagine leggera alpine linux potrebbe essere una qualsiasi distribuzione quindi viene montato un sistema del file system root all'interno di questo container quindi attaccando una volta avviato il container può accedere a tutti i file del sistema root ma di queste molte di queste tematiche si risolvono in podman e il mio collega Samuel Scuderi ve le presenterà ok si ciao piacere a tutti sono appunto Samuel Scuderi lavoro nell'ambito della sicurezza informatica proprio per internet con me parleremo appunto delle principali differenze che siamo riusciti a individuare fra docker e podman come anticipato proprio dal collega abbiamo visto che attraverso il socket abbiamo contattato il demone ottenendo così i privilegi di root al sistema operativo è appunto proprio una delle maggiori vulnerabilità individuate su docker è proprio la presenza di questo demone che libera tanti spazi a vulnerabilità di privilegio escalation quindi praticamente se riusciamo a scovare una possibile vulnerabilità su questo demone noi otterremo appunto il privilegio di root sulla macchina quindi praticamente abbiamo accesso a qualsiasi cosa sulla macchina su podman invece viene risolto questo problema proprio perché supporta nativamente l'esecuzione rootless ovvero nel caso in cui un container dovesse essere abusato noi otteniamo l'accesso solamente con i privilegi dell'utente che lo esegue quindi non avremo i permessi completi di root su tutta la macchina proprio grazie a questo un vantaggio di tutto ciò ovvero quella dell'esecuzione dei container da parte di podman in maniera separata e gestita in maniera separata dal sistema operativo ci fornisce un miglior isolamento rispetto a docker proprio perché docker avendo questo demone diventa difficile andare a separare completamente i vari container proprio grazie appunto al fatto che podman è rootless e vengono gestiti in maniera separata questo permette proprio a podman di integrarsi perfettamente con sistemi di sicurezza nativi di linux come s linux e app armor questo ci forniscono appunto delle misure di sicurezza proattive praticamente noi abbiamo un maggiore controllo su cosa può e cosa non può fare un container beh su docker questo è un po' più difficile proprio per la sua natura in quanto si hanno necessità di alcune configurazioni che sono difficili da gestire in ambiente di produzione soprattutto in ambiente di produzione appunto in cui bisogna andarci leggeri soprattutto per non creare dei disservizi al cliente un altro vantaggio è proprio quello che podman ci permette appunto di una configurazione molto più semplice nell'esecuzione dei container in maniera ridolli questo ci permette appunto di non andare a modificare o accedere a risorse di cui non abbiamo i permessi durante l'esecuzione di un container con docker questo è molto più difficile in quanto si hanno appunto dei problemi nella configurazione soprattutto di directory o di file in cui si necessita la scrittura temporanea come ad esempio banalmente i log beh questo podman lo risolve appunto gestendo tutto praticamente in maniera automatica la scrittura di questi file temporanei inoltre appunto per il fatto che podman gestisce tutti i conteniti in maniera separata ogni utente può appunto gestire e interagire con i container senza andare a richiedere risorse o senza avere il permesso di accesso a risorse di cui non hai permessi Beh con Docker questo è molto più difficile in quanto essendoci un demone principale per la gestione di tutti i container diventa diciamo difficile andare a isolarlo e quindi andarlo a utilizzare per appunto ambienti condivisi dove si vuole che più utenti vadano ad eseguire magari contemporaneamente diversi container quindi banalmente abbiamo fatto una piccola preview dei principali problemi che si sono individuati in Docker e alcune soluzioni che podman fornisce in maniera nativa quindi senza andare a applicare configurazioni aggiuntive come abbiamo detto appunto qui c'è un piccolo recap che parla proprio dell'assenza del demone quindi riduce la superficie d'attacco l'esecuzione ruthless quindi minimizza il rischio di privilege escalation che banalmente l'esecuzione ruthless possiamo vederla come se noi abbiamo una sola serratura per casa nostra quindi se perdiamo le chiavi di casa banalmente o ce le rubano un qualsiasi ladro può entrare in qualsiasi stanza di casa nostra inoltre c'è l'integrazione nativa come abbiamo detto prima fornisce un maggiore controllo sulla sicurezza e sui movimenti che si possono fare all'interno dei container l'esecuzione ridolli e la capacità di operare ma in un ambiente multiutente proprio per queste caratteristiche che abbiamo individuato ci sentiamo appunto di consigliare podman sia a livello strutturale che a livello di sicurezza proprio per la gestione dei container soprattutto appunto in ambienti di produzione dove la sicurezza bisogna stare sempre un po' più attenti e niente con questo vi ringrazio come potete vedere in slide c'è la nostra pagina web internet idee l'email con i vari siti su cui potete trovarci inoltre tengo a dirci che noi saremo tutto il giorno allo stand lì a sinistra all'angolo quindi per qualsiasi curiosità domando anche semplicemente per magari conoscerci fare amicizia siamo lì e potete venirci a trovare in qualsiasi momento grazie grazie a voi ragazzi allora chiamo Fabiana Farias che ci parlerà dell'intelligence exchange intelligenza artificiale e creatività un'alleanza per potenziare la mente umana approfitto per ringraziare Fabiana prima non l'ho fatto con Carla perché avere delle presenze femminili tra gli speaker per noi è veramente molto importante ragazzi perché sono anni che partecipo al Nalug e questi sono i primi anni in cui si affacciano anche un po' di ragazze in questa esperienza grazie un secondo che sto aspettando un attimo qui ok allora innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per essere qui in ogni caso mi presento sono Fabiana e sono una sviluppatrice in unitiva oggi ho voluto portare un progetto su cui ho lavorato che si chiama diciamo di intelligence exchange questo è il titolo che gli ho dato perché volevo evidenziare diciamo che generalmente l'intelligenza artificiale è sempre stata vista come qualcosa che a volte si sostituisce un po' all'intelligenza umana mentre invece l'ho voluta interpretare più come se fosse uno scambio nel mio progetto viene utilizzata nella maniera tale che attraverso delle richieste dell'utente l'intelligenza artificiale ha la possibilità di allenarsi e l'utente ha di allenarsi grazie alle risposte che l'intelligenza artificiale genera allora il progetto nasce appunto dalla volontà di fornire uno strumento efficace per potersi allenare per la preparazione dei colloqui tecnici per quanto riguarda lo sviluppo software questo perché mi sono resa conto che effettivamente diciamo anche in generale nelle pagine di recruitment delle aziende non c'è una vera e propria sezione che mette a disposizione un diciamo un canale per potersi allenare quindi ho voluto integrare sia l'intelligenza artificiale sia rivolgermi a un target giovanile quindi ho unito il tutto attraverso dei canali di messaggistica istantanea il progetto è stato sviluppato in python ed è stato integrato con due tipi di intelligenza artificiale abbiamo un modello open source che è appunto lama che è un modello che viene applicato in locale e poi abbiamo in questo caso per la dimostrazione che più avanti farò utilizzo un API di Gemini da questo nasce il bot di telegram che ha varie funzionalità questo bot innanzitutto mette al centro l'interazione con l'utente attraverso delle richieste che l'utente può fare l'utente ha la possibilità di poter selezionare sia il tipo di difficoltà che il tipo di linguaggio il bot prenderà la richiesta dell'utente e farà una richiesta all'intelligenza artificiale che genererà una sfida questo è integrato ad un database io ho utilizzato per lo più Postgres dove l'id dell'utente e le sfide che gli sono state generate vengono immagazzinate questo per garantire comunque anche una sorta di non ripetività va bene avete capito l'utente ha anche la possibilità di poter eliminare la cronologia quindi magari di ripescare comunque le stesse sfide che già ha sostenuto in precedenza e ha la possibilità di poter richiedere delle soluzioni in formato pdf così da poter avere anche una tracciabilità diciamo degli esercizi che ha svolto le tecnologie utilizzate come ho già anticipato per lo più sono state python che è la parte principale dove tutto il progetto si sviluppa per l'integrazione con telegram ho utilizzato un token che mi è stato generato da Botfather che mi permette appunto di collegarmi al bot e di settarne tutta la logica lama è il modello open source che ho utilizzato ed è un modello in locale il mio modello in particolare è un modello di 3 bilioni di parole ed è diciamo molto molto simile a Gemini per la dimostrazione ho preferito utilizzare Gemini per questioni tempistiche perché lama è un modello assolutamente valido però ha bisogno di una cpu che un computer domestico non riesce diciamo a reggere quindi la tempistica di una risposta diciamo arrivava dopo 5 minuti quindi per questioni logistiche ho preferito utilizzare Gemini postgres per l'immagazzinamento dei dati e poi docker poiché il progetto è dockerizzato e anche disponibile su github questo permette di poter scaricare tranquillamente il progetto sul proprio computer e diciamo non avere problemi di conflitti per quanto riguarda il sistema operativo che ospita il progetto vi faccio vedere si è interrotta la condivisione mi so secondo solo ok sono io che ho perso la connessione perdonatemi interruzione allora l'analisi della struttura del progetto come ho detto è stato sviluppato in python e prevede diciamo tre moduli principali il primo è il modulo main dove c'è tutta la logica che si nasconde alle spalle del telegram bot abbiamo la classe principale che è il bot pi che praticamente gestisce tutti i button e tutte le richieste che vengono effettuate poi abbiamo il database e create tables che sono due classi che si collegano direttamente con Postgres database si occupa di effettuare le crude quindi diciamo tutte le operazioni di eliminazione e immagazzinamento dei dati mentre invece create tables all'avvio del container permette di creare diciamo un ambiente già sviluppato in 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 postgres in modo tale che l'utente che scarica il progetto non deve necessariamente andarsi a creare la diciamo la struttura del database messaggist invece si occupa di tutti i messaggi preimpostati che il bot invia e poi abbiamo il pdf generator che è una classe che si occupa appunto di generare il pdf con la risposta e utilizza una libreria che si chiama fpdf che è sempre di python poi abbiamo i modelli come ho detto già anticipato lama e google cloud ovvero con gemini e poi abbiamo il modulo docker dove c'è il docker file e anche il docker compose così che se mai lo doveste scaricare da github potete tranquillamente avviare il docker compose e il progetto è già completo per quanto riguarda la dimostrazione adesso vi faccio vedere come si sviluppa qui abbiamo l'ambiente docker che è partito sui lati che mostra che le richieste sono diciamo accessibili e quindi possiamo inviare la nostra richiesta tramite lo start il bot ci darà il benvenuto con il nostro id utente con il nostro nome utente e ci chiederà che tipo di linguaggio vogliamo utilizzare fatto questo possiamo selezionare un qualsiasi tipo di linguaggio nel momento in cui magari abbiamo sbagliato selezionare la scelta il bot ci dà anche la possibilità di poter tornare indietro tornando indietro possiamo riselezionare il nostro diciamo linguaggio e scegliere il livello di difficoltà una volta fatto questo il bot ci avvisa che sta generando effettivamente la sfida ce la invia noi possiamo leggerla possiamo scegliere di cambiare di avere una soluzione di ricominciare da capo oppure di terminare direttamente l'interazione quando clicchiamo su soluzione ovviamente ci avvisa sempre che il bot è in lavorazione ci invia un pdf con scritto solution noi lo possiamo scaricare possiamo consultare la risposta che generalmente è sotto formato codice tramite ovviamente questo è sempre modellabile nel senso che la richiesta che ho fatto io al bot all'intelligenza artificiale è quello di propormi la soluzione principalmente in formato codice ma ovviamente questo può essere adeguato successivamente alla soluzione noi possiamo ricominciare quindi il bot si riavvierà oppure possiamo terminare in questo caso dato che noi abbiamo creato uno storico in questo momento perché abbiamo innanzitutto fatto registrare il nostro re di utente e ci abbiamo associato una sfida possiamo tranquillamente eliminare la cronologia infatti il bot ce lo dice dice che le sfide che hai sostenuto sono state immagazzinate in memoria per garantirti un'esperienza unica e non ripetitiva ma se mai desideri di rimuovere i salvataggi ti basterà cliccare su elimina cronologia una volta fatto questo anche in database non avremo più niente e quindi allo start il bot ci saluterà come se noi fossimo un utente appena arrivato possiamo fare un'altra dimostrazione a meno per far vedere cosa succede quando decidiamo di cambiare challenge quindi ne facciamo cambio e lui ce la ricalcola possiamo ricominciare da capo quindi ritornare allo stato iniziale e possiamo semplicemente poi terminare detto questo volevo innanzitutto la dimostrazione comunque è finita volevo ringraziare innanzitutto la mia azienda perché mi ha dato gli strumenti per poter permettermi di sviluppare questo bot in totale tranquillità e ha sostenuto questa mia iniziativa volevo ringraziare i colleghi che sono qui oggi e che hanno collaborato con me soprattutto il mio collega Paolo De Luise sia per la realizzazione del powerpoint sia per l'integrazione dell'EPI con Gemini e volevo ringraziare Nalug per averci dato questa possibilità di essere qui oggi e niente grazie a tutti va bene allora grazie ancora a te adesso ascoltiamo Gianmarco Gargiulo che ci parla di The Googling di Android liberiamo il nostro telefono dalle grinfie di Google salve a tutti sono Gianmarco e oggi vi farò questa presentazione sul de-googling di Android quindi come liberare il proprio dispositivo Android dalle grinfie di Google quindi il de-googling che tradotto letteralmente in italiano significa sgooglamento è una pratica che consiste nell'eradicare Google e tutti i suoi servizi dalla propria vita oppure più specificamente rimuovere le applicazioni e le dipendenze di Google dal proprio telefono dal proprio dispositivo Android Google ha il monopolio quasi completo di molti settori come motori di ricerca piattaforme pubblicitarie piattaforme video sistemi operativi mobili eccetera ed è molto nota per violare la privacy dei propri utenti o anche solo di persone che vanno su un sito web che contiene un loro tracker per esempio sono colpevoli di tracciare e conservare la tua posizione senza che tu lo sappia per poi segnalarti alla polizia perché sei passato vicino ad una scena del crimine possono guardare le foto di tuo figlio e segnalarti erroneamente alla polizia per pedofilia possono leggere i tuoi file di Google Drive e ritenerli inappropriati per cui bloccarli e sentire ciò che dici in qualunque momento tramite i microfoni del tuo telefono e molto altro ancora in particolare sulla stragrande maggioranza dei dispositivi Android che ci sono in commercio ci sono queste dipendenze proprietarie dette Google Play Services che servono a fornire specifiche funzionalità per integrarsi con vari servizi di Google il problema è che questi Google Play Services sono appunto proprietari e girano a livello di sistema con privilegi elevati quindi possono accedere a tutti i dati del telefono possono accedere a vari sensori come microfoni fotocamere GPS bypassando qualunque indicatore di privacy possono anche importire delle restrizioni su cosa puoi installare cosa puoi avviare per esempio sono recenti casi di KDA Connect che se lo installavi da FDroid per esempio da una fonte terza ti veniva bloccato perché secondo Play Protect era malware oppure per come hanno fatto dei cambiamenti alla loro API di recente per cui adesso certe app non possono essere installate se non dal Play Store per effettuare il de-googling ci sono generalmente due metodi o si rimuovono manualmente le dipendenze dal proprio telefono tramite ADB o root oppure cambiare completamente il sistema operativo sul proprio telefono che sia un'altra distribuzione di Android oppure un sistema operativo completamente diverso ovviamente parte del de-googling richiede anche il dover ridurre l'utilizzo di software e di servizi di Google in generale anche da altri dispositivi per rimuovere il software di Google manualmente si fa tramite uno strumento da riga di comando che si chiama Android Debug Bridge ADB abilitando poi il debug USB dalle opzioni sviluppatore in molti casi potrebbe anche essere necessario sbloccare i permessi di rutto cosa che è spesso non consigliata per motivi di sicurezza oppure che è resa direttamente impossibile dal produttore del proprio telefono bisogna rimuovere correttamente i componenti giusti altrimenti potreste anche rimuovere cose di sistema che potrebbero danneggiare il sistema e comunque sia rimuovendo questi servizi Google certe app che lo richiedono non funzioneranno a meno che non si installi un sostituto e di questi sostituti ne parleremo a breve su molti telefoni è possibile cambiare sistema operativo di fabbrica con un'altra distribuzione di Android solitamente detta ROM che non include i servizi Google o che li rimpiazza con un equivalente per fare questo è necessario abilitare lo sblocco OEM nell'opzione sviluppatore del telefono riavviare nell'interfaccia del bootloader e scrivere alcuni file d'immagine in specifiche porzioni di memoria solitamente queste operazioni sono automatizzate tramite degli script che ti vengono forniti da chi produce la distribuzione esistono anche alcune aziende come ad esempio Yodeo o Murena o diversi rivenditori specializzati che offrono telefoni con una ROM già installata senza i servizi Google poi per il più avventurato esistono anche diverse distribuzioni Linux per alcuni modelli di telefoni come ad esempio Ubuntu Touch Arch Linux Arm e Postmarket OS solo che sono software molto sperimentali e che quindi non hanno tutte le applicazioni che un tipico utente Android o iOS si aspetterebbe tra l'altro nella stanza di là dell'installation party ho messo anche in piedi un telefono con Ubuntu Touch quindi Android alla base è software libero perché c'è il Android Open Source Project a OSP che è al cuore di tutte le versioni di Android in esistenza sia di fabbrica che modificate con il tempo Google ha spostato molte delle funzionalità che c'erano normalmente in OSP in delle sue versioni proprietarie per esempio l'applicazione telefono o l'applicazione messaggi che adesso non sono più mantenute da Google perché mantiene la sua versione proprietaria Google Telefono e Google Messaggi poi Google è anche il maggior contributore di codici a OSP essendo essenzialmente a terra del progetto quindi hanno molto potere decisionale adesso vedremo alcune di queste distribuzioni prive di servizi Google Lineage OS è nata dalle ceneri della CyanogenMod supporta una vastissima gamma di telefoni e tablet di tantissimi produttori anche molto datati aggiunge molte opzioni di personalizzazione e di sicurezza in più rispetto ad Android Stock e può essere installato con o senza i servizi Google oppure con un sostituto libero e minimale che si chiama Micro G che appunto serve a far funzionare le applicazioni che richiedono per forza i servizi Google poi esiste un fork cioè quindi una versione modificata di Lineage OS che si chiama Lineage OS for Micro G che include Micro G appunto già installato assieme anche ad FDroid e di FDroid ne parleremo a breve Grafino S è la distribuzione più sicura e privata in assoluto è consigliata addirittura da Edward Snowden rende OSP più hardened cioè più indurito nel senso in termini di sicurezza con una sandbox delle app migliorata patch molte più patch di sicurezza ricevute appena escono mitigazioni di vari exploit nessuna connessione ai server di Google out of the box cioè appena installato appena avviato non c'è nessuna connessione a Google un browser più sicuro di un'implementazione opzionale dei servizi Google ufficiali ma senza privilegi elevati detta GMS Compact questa distribuzione può essere installata soltanto sui dispositivi Google Pixel più recenti per gli alti standard di sicurezza hardware e firmware che hanno poi Calix OS migliora la sicurezza e prende alcune delle personalizzazioni della Lineage OS ed offre applicazioni per la privacy già installate come Orbot Tor Browser Datura Firewall K9 Mail eccetera include opzionalmente anche Micro G F-Droid e il loro Calix VPN un servizio VPN gratuito fornito dal Calix Institute che lavora a questa distribuzione supporta soltanto alcuni dispositivi di Google Fairphone e Motorola perché sono gli unici che permettono di sfruttare il verified boot l'avvio verificato per cui è una funzionalità del firmware di molti telefoni che permette di verificare che il sistema operativo non sia stato manomesso molto simile al secure boot sui pc Divest OS è una distribuzione basata su Lineage OS che punta a migliorare la sicurezza sui dispositivi più vecchi rimuove tantissimi blob proprietari quindi rimuove driver proprietari dal kernel e supporta Micro G e include varie app per la privacy e la sicurezza già installate come ad esempio alcune fatte da loro tipo Hypatia che è uno scanner per malware e X-Tierpater che serve a cancellare lo spazio libero a basso livello Divest OS supporta molti telefoni di diversi brand ma decisamente meno rispetto a Lineage OS per preservare al meglio la propria privacy e la propria libertà è importante fare uso di quanto più software libero open source possibile questo è possibile grazie alla natura aperta di Android specialmente in assenza del Google Play Store e dei servizi Google esiste un intero ecosistema di applicazioni libere per Android pensate per sostituire molte delle applicazioni proprietari che normalmente le persone usano anche non di Google questo include anche alcuni store alternativi F-Droid è uno store alternativo che comprende soltanto applicazioni libere ed open source per Android le app sono suddivise in diverse categorie connettività giochi multimedia personalizzazione eccetera e si possono aggiungere altri repository quindi altri diciamo altri server dai quali prendere altre applicazioni per poter espandere il catalogo F-Droid ti espone ad un grande cosistema di applicazioni libere open source ed è molto utile per abituarsi a queste app anche quando il proprio telefono non è sgooglato visto che può essere tranquillamente scaricato da F-Droid.org F-Droid.org quindi si installa tramite la pick up Aurora Store quindi essenzialmente tutte le applicazioni che richiedono i servizi Google funzioneranno se si utilizza appunto un sostituto ma in assenza in caso non ci sia il Play Store possiamo utilizzare Aurora Store per poter accedere quindi al catalogo di app e giochi del Play Store per poter quindi installare aggiornare tutte le applicazioni del Play Store senza dover usare l'applicazione ufficiale di Google senza dover accedere per forza visto che hanno una funzionalità di accesso anonimo per cui esiste anche un modo per poter accedere a Google dall'Aurora Store nel caso l'accesso anonimo dia problemi solo che non è molto consigliato perché può essere che Google poi se ne accorge e vi banna ho sentito dire che è successo e cosa del genere quindi Google è il monopolio come detto all'inizio di diversi ambiti e gran parte delle persone utilizzano i loro servizi e le loro applicazioni anche per operazioni molto semplici come scrivere documenti di testo fare videochiamate e guarda caso sono indagati attualmente dall'antitrust americana per questo motivo fortunatamente esistono molte alternative più o meno libere e rispettose della privacy per una gran parte dei loro prodotti che sono disponibili per dispositivi mobili web e computer per esempio fra i motori di ricerca alternativi più rinomati abbiamo DuckDuckGo e Quant che si basano sui risultati di ricerca di Bing ed anche delle soluzioni self-hosted come SearchNG e Forget per cui sono dei meta motori di ricerca visto che non sono proprio loro i motori di ricerca che indicizzano le pagine web ma prendono da diversi siti da diversi motori di ricerca tutti assieme e sono configurabili poi Chrome e la versione open source Chromium presentano un grande monopolio nell'ambito dei browser e degli engine dei browser visto che Chromium è alla base di moltissimi altri browser come Edge Opera Brave e diversi altri l'unica altra base diversa rilevante anche se in costante caduta di mercato è Mozilla Firefox che è comunque un browser ottimo che è veloce e funziona perfettamente e che non subisce cambiamenti gravi come la deprecazione di Manifest V2 che sta facendo Google ultimamente per cui con il Manifest V3 le estensioni per bloccare gli annunci e i tracker saranno molto limitate anzi già è cominciata questa transizione poi esistono anche forche specifici di Firefox come ad esempio Librewolf che migliora molto la privacy e la sicurezza e preistalla anche un blocco annuncio un blocco tracker e poi un'opzione equivalente per Android è Ice Raven che è essenzialmente una versione modificata di Firefox per Android che a differenza di Google per Android supporta le estensioni poi se proprio uno ha bisogno di un browser basato su Chromium per motivi tecnici esiste comunque un Google Chromium che prende la base di Chromium e rimuove tutto ciò che rimane di Google quel poco che rimane poi come sistema operativo per PC molto scarsi o vecchi che servono soltanto a fare azioni di base come navigare e scrivere documenti abbiamo Gallium OS che è pensato apposta per i Chromebook integrando driver e un'interfaccia molto leggera per questi dispositivi poi abbiamo anche Tails che è un sistema operativo che si usa da chiavetta USB per poter navigare anonimamente sul dark web o su internet in generale oppure ci sono anche tantissime altre distribuzioni Linux leggere per poter girare su hardware molto scarsi poi per la posta elettronica esistono diversi provider noti per il fatto che non vendono i tuoi dati alle terze parti come ad esempio ProtonMail e Tuta ed in particolare anche organizzazioni dipendenti come Disroot che offrono diversi altri servizi liberi di open source poi come client di posta abbiamo per esempio Thunderbird che è un progetto sempre di Mozilla che ultimamente ha ricevuto molto funding e molti miglioramenti e K9 Mail su Android per cui K9 Mail diventerà poi in futuro la versione ufficiale di Thunderbird per Android Maps è uno dei prodotti Google più indispensabili per moltissime persone il progetto OpenStreetMap offre delle mappe gestite dalla comunità che chiunque può migliorare gli può aggiungere luoghi e correggere errori e anche se non è al 100% al pari con Google Maps consiglio comunque vivamente di utilizzarla di provarla per Android esiste l'applicazione Organic Maps che ti permette di scaricare le mappe offline e di vedere anche percorsi per le escursioni percorsi delle metropolitane e ottenere indicazioni poi Drive, Docs e Foto sono abbastanza collegati fra di loro come soluzione cloud con file, foto contatti, calendario eccetera che si possono sincronizzare anche con il telefono abbiamo Nextcloud che è un cloud selfostabile che quindi si può installare sul proprio server o che è offerto da altre organizzazioni il completo è che si può estendere con centinaia di applicazioni per estenderne la funzionalità ed è utilizzabile dal browser e dal telefono poi per la scrittura di documenti online abbiamo Collabora che è compatibile con il formato ODT quindi formati aperti di LibreOffice che si può anche integrare in Nextcloud poi per una galleria di foto e video con caricamento automatico abbiamo Fotoprism e Inmic che sono appunto selfostabili e hanno interfacce web e app mobile molto mature poi per guardare i video su YouTube possiamo utilizzare applicazioni come Tubular Libretube e Freetube che ci permettono appunto di guardare i video su YouTube senza utilizzare il sito ufficiale senza dover accedere e ci danno anche delle funzionalità che YouTube non ha o che offre a pagamento come ad esempio il download del video o dell'audio oppure la modalità picture in picture l'ascolting background sul mobile quindi per il fatto che non si accede al proprio account Google non si possiamo comunque iscriverci localmente ai nostri canali preferiti e possiamo importare le iscrizioni dal nostro account Google l'equivalente dal browser di queste applicazioni sono Invidius e Piped che essenzialmente fanno come dei siti proxy dai quali tu guardi YouTube tramite loro sono selfostabili e sono disponibili su molti server pubblici per cui tramite loro Google non saprà nemmeno il vostro indirizzo IP poi come piattaforme alternative vere e proprie abbiamo Peertube che è anche se selfostabile però è anche federato cioè che vuol dire che può comunicare con altri server che parlano lo stesso protocollo activity pub cioè per dire lo stesso di Mastodon ed anche Odyssey che utilizza invece un protocollo basato su blockchain tutto suo che si chiama library poi ci sono anche diversi strumenti utili per la privacy e la sicurezza anche al di fuori nell'ambito di Google per esempio uBlock Origin è l'estensione per browser per blocco annunci e tracker migliore in assoluto e può essere personalizzata con dei filtri con dei filtri scritti a mano oppure dei filtri aggiornati automaticamente da fonti esterne LibreDirect che è un'altra estensione per browser che serve a reindirizzare automaticamente siti come YouTube Reddit ed anche altri ai loro frontend privati quindi per esempio quando apri un link di YouTube quello te lo reindirizza automaticamente ad Invidius se l'hai impostato così poi TrackerControl è un firewall per Android che blocca tracker e domini malevoli da tutte le applicazioni che ci passano attraverso e si interfaccia come VPN locale nel dispositivo poi Fossify è una raccolta di applicazioni basilari quali calcolatrice telefono contatti gallerie eccetera per Android sono completamente libere senza annunci pubblicitari e sono personalizzabili sono molto personalizzabili poi ImagePipe serve a rimuovere i metadati dalle fotografie come per esempio la data di scatto il modello del telefono la locazione di dove è stata scattata la foto perché per esempio molti social come Instagram prendono questi metadati per creare un profilo di dove vai con chi ti vedi poi Syncing è un software che sincronizza file e cartelle fra computer e dispositivi mobili quando sono connessi alla stessa rete locale in automatico KDE Connect ti permette di avere quella integrazione che hanno per esempio dispositivi Apple ed anche di più se si utilizza Android e Linux o anche Windows per cui si può inviare un file da un dispositivo all'altro si può controllare il mouse del computer si può controllare la presentazione dal telefono la riproduzione multimediale eccetera poi LocalSend che è un'app per condividere file e testo con i tuoi amici tramite la rete locale anche sul computer OpenKeyChain serve a tenere le chiavi PGP che sono spesso delle chiavi crittografiche usate spesso per le email per cifrare e firmare le email per poterle utilizzare sul telefono per poterle aprire alle applicazioni che ne hanno bisogno FFUpdater permette di ottenere browser e altri strumenti per la privacy per Android di tenerli costantemente aggiornati quindi esiste un ecosistema di software libero per Android vastissimo questa è soltanto una piccola parte molti di queste applicazioni sono disponibili su FDroid e anche sul Play Store poi qui trovate diversi link utili come una lista di diverse malefatte di Google che ha fatto in passato e che continua a fare anche al di fuori del discorso della privacy poi una tabella per comparare diverse distribuzioni di Android incluse tutte quelle che ho nominato prima i siti web ufficiali di tutte le distribuzioni che vi ho mostrato il sito di FDroid dal quale si può scaricare ripeto la pick up su qualunque telefono Android e anche un catalogo di diversi prodotti più o meno liberi che servono a sostituire quelli di Google renderò questa presentazione disponibile sul mio sito in modo che potrete scaricarvela rileggervela e vedere tutti i link e tutte le informazioni poi ho anche creato due video tutorial su come installare Graffino S su un dispositivo Google Pixel li potete trovare sul mio sito a questo link o anche su YouTube Peertube Odyssey e prima di finire voglio fare una veloce dimostrazione del telefono che ho usato appunto in quei video grazie a tutti ok allora questo è lo schermo del telefono questo qua che ho utilizzato appunto nel video quindi adesso su questo telefono c'è Graffino S potete vedere che ho come avevo fatto nel video ho installato diverse applicazioni per esempio vediamo FDroid che quindi è lo store attualmente non sono connesso fammi vedere ok ok quindi aprendo FDroid possiamo trovare diverse applicazioni tantissime applicazioni possiamo vedere le categorie quindi automazione connettività giochi messaging ufficio eccetera possiamo aggiornare le applicazioni tranquillamente da qui poi abbiamo l'Aurora Store che appunto ci permette di connetterci al catalogo del Play Store quindi possiamo vedere tutte le applicazioni che una persona normale vedrebbe utilizzerebbe possiamo installarle tranquillamente poi abbiamo fra varie applicazioni libere abbiamo per esempio Aegis che è per l'autenticazione a due fattori ora non ho codici però possiamo vederlo per esempio dal FDroid delle screenshot ecco apparirebbe quindi in questa maniera abbiamo per esempio ImagePipe per cui possiamo appunto rimuovere i metadati dalle immagini possiamo anche disegnarci sopra metterci scritte sfocare anche per esempio se abbiamo il volto di una persona che non vogliamo mostrare possiamo sfocarlo così poi abbiamo Davix 5 che essenzialmente serve per sincronizzare da per esempio anche da Nextcloud i propri contatti e il calendario poi K9 Mail che non ho impostato quindi dobbiamo vedere un'altra volta le screenshot aspetta quindi potete vedere qua l'interfaccia di K9 Mail molto semplice poi abbiamo le applicazioni Fossify per esempio Fossify Musica possiamo riprodurre possiamo vedere tutti gli album in locale gli artisti le tracce abbiamo il calendario che appunto permette anche di integrarsi con Nextcloud abbiamo per esempio anche la galleria con ora mi prende le copertine della musica però qui per esempio la fotocamera abbiamo KDA Connect che però non si vuole connettere al computer attualmente quindi non ve lo posso mostrare però comparirebbero dei pulsanti per cui dice invia un file controlla il mouse e altre opzioni e altre opzioni simili poi LOCAT SEND per poter inviare quindi file con i propri amici per cui uno può inviare da qui e qua comparirebbero i dispositivi poi Breezy Weather che è essenzialmente un'applicazione per il meteo che ha diverse fonti che si possono personalizzare poi Tracker Control che è quindi il firewall per bloccare tutti i tracker e i domini malevoli possiamo anche proprio togliere l'accesso a internet a specifiche applicazioni poi Tubular che serve a guardare video su YouTube senza accedere a Google non prende molto bene qui possiamo per esempio metterlo in picture in picture possiamo anche sentirlo sottofondo quindi per esempio se è un video musicale questo quindi è molto utile possiamo spegnere il telefono e continuare a sentire poi Open Camera che è una fotocamera molto più avanzata di quella stock normale quindi possiamo cambiare risoluzione timer modalità raffica griglia bilanciamento del bianco eccetera poi FF Updater quella appunto per tenere i browser e altre applicazioni aggiornate quindi qualsiasi cosa che ha a che fare con la connettività o con la privacy poi Audire che è tipo Shazam quindi serve a riconoscere le canzoni c'è la cronologia tor browser appunto per connettersi alla rete tor chi lo usa su pc dovrebbe conoscerlo bene essenzialmente sono queste qua diverse applicazioni ce ne sono appunto molte altre di più che si trovano solo su FDroid o sul Play Store direttamente e credo di aver finito ci sono eventuali domande quello è un Google Pixel 6 che avevo preso usato appunto per fare i video poi io ho un Pixel 9 quindi praticamente l'ultimo modello sì sì tutte e due con la mia che non dico qual è però non ho riscontrato alcun problema solitamente quelle danno problemi quando hai i permessi di root sbloccati sì solitamente i dispositivi più cattivi che non ti permettono di installare una custom ROM sono per esempio quelli Samsung o Huawei i Pixel invece sono cioè ironicamente i più facili da sgooglare ok vabbè ha chiesto se ci sono dispositivi che non che non ti permettono di appunto cambiare sistema operativo no al Google Pay no non esistono alternative quello proprio no è anche una cosa che non funziona per esempio su Graffino S perché Google non vuole appunto che funzioni su Graffino S e quelli dipende se hai delle banche che magari utilizzano un'applicazione specifica loro per i pagamenti contactless lo puoi fare perché comunque va tramite NFC quindi è solo Google Pay che non funziona nessun'altra domanda nessun'altra domanda allora penso abbiamo finito grazie Gianmarco volevo ricordarvi volevo ricordarvi che abbiamo l'installation party nella parte dietro qui se seguite dopo il roll up potete trovare un installation party un help desk quindi se avete curiosità domande e adesso passiamo al prossimo speaker che è Robert che ci parla di open source per la privacy grazie Robert prima di tutto dico buongiorno Napoli oggi visito la vostra città per la prima volta vengo da Sanremo io sono prima di tutto anche ringrazio Naluk per avermi invitato grazie ringrazio Naluk per avermi invitato e anche Gianmarco perché grazie a lui che ho scoperto questo evento io sono progettista ricercatore privacy mi chiamo Robert Blino e oggi vi parlerò della open source per la privacy perché sono due temi che mi interessano molto poi vedete che questa presentazione l'ho fatta in un programma open source che si chiama SucklessScent ed è la cosa più leggera in assoluto più semplice per fare le presentazioni è così semplice diciamo basilare in un certo senso che non ha almeno la possibilità di fare le esportazioni in pdf però però rende tutto tutto il testo molto molto grande che è utile per farvelo vedere è un programma molto bello ve lo consiglio allora sì partiamo ok ecco se una tecnologia può essere usata per la sorveglianza lo verrà cioè dobbiamo dobbiamo partire diciamo dal contesto della situazione nella quale ci troviamo questa è la realtà che serve capire perché se non capiamo questa realtà non si può andare avanti con la privacy con niente se una tecnologia può essere usata per la sorveglianza lo verrà e dunque questa è l'inizio è la base dalla quale partiamo per poi decidere come proseguire per trovare le soluzioni giuste serve anche capire che la privacy assoluta non esiste e non serve perché che cosa sarebbe la privacy assoluta sarebbe l'anonimato totale probabilmente ma l'anonimato totale secondo me è l'assenza di vita in qualsiasi modo cioè io che sono venuto qua sono molto molto interessato ai temi di riservatezza faccio consulenze su questo tema e poi cerco di trovare tutte le soluzioni migliori per me però io comunque qua mi presento con il mio nome vero con la mia faccia vera con la mia voce vera non mi nascondo in questo senso qua però la privacy è necessaria è necessaria in tanti casi nella vita per dire nemmeno la scelta di un abitante di caverna che si nasconde dal mondo totalmente anche lui avrà lasciato da qualche parte una sua impronta col DNA e poi se vogliono lo coltivano e trovano chi è lui e faranno tutte le interpretazioni dunque la privacy assoluta non esiste la privacy assoluta non esiste cioè parlando delle cose collegate alla biometria e le cose genetiche cioè io non mi preoccupo che qua lascio magari qualche cappello qualche impronta e poi magari me la analizzano penso che non succederà anche se avendolo appena detto magari qualcuno si troverà che lo deciderà di fare però cioè per dire queste cose qua non mi preoccupo perché il mio avviso è eccessibile a tutti però nel caso di per esempio un test genetico che io faccio volontariamente ecco quelli non li faccio perché non voglio che i miei dati siano dappertutto per prima nelle basi private poi a un certo momento ci sarà qualche pubblicazione di tutte queste cose originalmente riservate e private dunque diciamo le parole chiave sarebbero minimizzazione dei dati queste parole che amo minimizzazione dei dati cercare in ogni modo possibile di minimizzare i dati che vengono raccolti raccogliere solo quelli dati proprio necessari necessari sì allora sì andiamo avanti ecco e dunque visto che la privacy assoluta non esiste è impossibile trovare questo modo assoluto per evitare tutti i rischi serve determinare il proprio modello di minaccia questa è la cosa fondamentale perché ognuna ha un modello di minaccia diverso cioè sì si potrebbe cercare di evitare tutti i possibili diciamo rischi comuni ma anche lì quanto siamo pronti a sacrificare quanto siamo pronti a fare per avere questa questa cosa questa questa privacy questa privacy ampia e dunque se determina il proprio modello di minaccia per esempio se qualcuno magari non vuole che le varie ditte multinazionali e vari politici sappiano tutto su di lui così non viene non viene manipolato poi con la pubblicità con tutto quanto allora questo è un modello di minaccia un altro modello di minaccia sarebbe quando qualcuno sta cercando di nascondersi in un caso da una persona magari che le vuole male oppure anche dallo Stato è molto più difficile e dunque per la maggior parte delle persone serve arrivare a un certo 80% di privacy cioè per esempio se facciamo una curva così una certa iperbola arriviamo a questo punto qua dell'80% nel quale ogni percentuale aggiuntiva di miglioramento di privacy costa più e più e più e per la maggior parte di persone va bene questo 80% poi ci saranno alcuni che hanno bisogno del 90% del 95% ma sono sempre meno e meno persone io a un certo punto poi parlando della sorveglianza a un certo punto ho fatto un elenco di tutti i posti nella mia città di Sanremo dove ci sono le telecamere per poi evitare di andarci ma ovviamente non funziona è troppo difficile seguire questa cosa questo si chiama il 98% di privacy non funziona non è realistico serve trovare le cose realistiche ma per esempio de-googling già risolve tanto già risolve tanto nell'ambiente dei cellulari dei quali parleremo fra un po' e un'altra cosa che volevo dire che è più applicata alla sicurezza però sicurezza informatica però ad appare comunque anche con la riservatezza si può almeno pensare di questo principio qua un sistema assolutamente un sistema completamente sicuro è inoperabile un sistema completamente sicuro è inoperabile perché tutta questa sicurezza lo rende così complicato che nessuna persona lo può usare cioè se parliamo della criptografia stessa se parliamo della criptografia stessa cioè teoricamente a un certo punto quando i computer saranno abbastanza avanzati cioè anche tutta la criptografia post quantica tutto quello che è stato creato e quello che verrà creato potrebbe essere risolto perché è solo una cosa matematica una cosa di potenza quanto calcolo può fare un computer oggi e quanto calcolo potrà fare un computer in qualche in qualche anno in una decina d'anni e sì e sì purtroppo la perfezione ha un costo infinito dunque dunque se deve essere realistici ma adesso arriviamo arriviamo a la decentralizzazione che richiede open source perché decentralizzazione senza open source è praticamente un paradosso non c'è perché sì certo ci potrebbe essere dieci persone come l'associazione ICAN è quella che gestisce i domini tutti i domini del mondo vengono gestiti da questa ICAN International qualcosa for account names and numbers International Company for account names and numbers è un'organizzazione originalmente che faceva parte dello Stato degli Stati Uniti del governo degli Stati Uniti poi è stata separata e ci sono sette persone che ognuno hanno una chiave e tutti sono su un continente diversa quasi su tutti i continenti e questo è un certo tipo di decentralizzazione ma nella fine c'è l'idea che se tutte le persone su tutte le sette chiavi vengono in quella stanza loro possono cambiare come funzionano i domini ok ma comunque sono sette persone cioè in teoria non è così difficile a creare un modo per farli venire lì e farli cambiare come funzionano i domini cioè la decentralizzazione è vera quando è veramente ampia quando ci sono molti partecipanti dentro cioè è lo stesso motivo per il quale gli ecripto più forti sono quelle con il maggior numero sia di miners che di utenti perché la hash rate va su per quelli che conoscono di che cosa si tratta e dunque è più sicura perché per esempio c'è questo BSV Bitcoin Satoshi Vision che magari ci sarà anche qualcosa di bello dietro ma nella fine lo usano così pochi che per fare una transazione sono richieste praticamente 2000 conferme che richiede almeno 24 ore e dunque non è una cosa fattibile solo perché lo usano pochi e dunque lo rende meno sicuro dunque la decentralizzazione richiede una certa adozione di massa cioè un altro termine chiave se parliamo di cose così applicate alla realtà e dunque io vorrei esprimere il mio amore per protocolli servizi e formati in particolare protocolli perché per protocolli non servizi per protocolli standard e formati perché nella fine sono quelli che si espandono di più e che definiscono la nostra realtà tecnologica perché tutti i servizi tutte le piattaforme andranno via cioè oggi c'è oggi c'è Telegram ok vabbè magari fra dieci anni non ci sarà più non lo sappiamo oggi c'è qualcos'altro Whatsapp cioè molto problematico anche Telegram però fra dieci anni non sapremo se li utilizzeremo ancora cioè i bot Telegram mi piacciono moltissimo come un formato però nella fine sì magari io ci sviluppo qualcosa vabbè se si tratta dei prossimi due anni certo con volentieri ma nel lungo termine non so quante altre persone cioè non so dove andrà questa cosa mentre i protocolli durano e per dare un esempio pratico la mail cioè la mail è un protocollo che esiste credo da quasi da più magari di 40 anni ed è ancora con noi è terribile per la privacy cioè io sono sicuro che non era inventato per mandare tutte le mail che inviamo alla CIA non è stato inventato per quello ma in pratica sta facendo questo perché le persone che lo sviluppavano l'hanno creato per avere questa modalità di comunicazione praticamente fra cinque case tra cinque uffici e poi questa cosa è cresciuta e noi stiamo utilizzando questo protocollo tutti che ha i metadati che tantissimi metadati che ci mettono a rischio e poi il GPG non aiuta perché i metadati cioè i dati che sono collegati alla mail che inviamo cioè quando da chi a chi tutte queste cose qua non vengono mai cifrate il tempo il ex direttore della CIA una volta ha detto a una conferenza pubblicamente come sto parlando adesso che loro uccidono le persone con i metadati e dunque e le mail fanno vedere tutti i metadati dunque serve pensare in protocolli e formati perché rimangono sempre certo ci sono formati come che sono proprietari vabbè però se possibilmente vanno evitati però però generalmente un formato dura molto di più con come si vede protocolle standard e così via serve definire standard e sì dunque poi inoltre un protocollo è universalmente integrabile cioè per le mail abbiamo tutti questi clienti abbiamo tutte queste app e così via stessa cosa per il web abbiamo tutti tutti i navigatori web browser diversi e tutti lavorano con lo stesso standard cioè per dire whatsapp non credo è una cosa proprietaria una cosa sempre di un'azienda serve pensare in qualcosa che può essere applicato universalmente che riduce l'attrito praticamente praticamente riduce l'attrito un protocollo perché tutto già lì integrabile i standard sono belli quando sono fatti correttamente poi quando i standard e spesso non sono i migliori allora serve migliorarli e per questo esiste l'open source con tutti i fork vi faccio una domanda quanti di voi siete sviluppatori alzate le mani io vi propongo quando lavorerete sui progetti open source e non solo ma in particolarmente su quelli date un pensiero a come il vostro progetto potrebbe evolvere tenendo in mente la riservatezza perché nella fine come abbiamo visto con le mail originalmente non ci hanno pensato non hanno mai pensato che sarebbe stata una cosa così grande e nella fine oggi noi siamo siamo schiavi quasi schiavi di questo sistema praticamente di sorveglianza e dunque io vi auguro che i vostri progetti siano poi famosi in tutto il mondo e usati da tutti e dunque dateci un pensierino alla riservatezza come potrebbe essere integrata adesso passiamo alle cose un po' più concrete trustless arriviamo a trustless i diritti possono e dovrebbero essere garantiti dalla legge certo ma noi non possiamo garantire che la legge sarà sempre favorevole alle nostre idee che siano la criptografia o qualcos'altro infatti anzi la legge anche attuale particolarmente europea meno italiana ma comunque quella europea maggiormente non è tanto favorevole alle nostre idee e poi inoltre c'è una bella differenza fra una legge emanata dallo Stato e una legge vera cioè fisica o matematica la gravità funziona sempre non posso violare la gravità almeno adesso poi gli scienziati cambieranno la definizione di gravità ma prima di quel punto la gravità funziona sempre la legge può essere violata la legge emanata dallo Stato e dunque serve creare le tecnologie che hanno dentro le leggi vere cioè quelle fisiche e maggiormente matematiche cioè la criptografia poi per trustless open source se il codice sorgente è visibile a tutti è molto più difficile fare cose nefaste perché tutti possono verificare di che cosa si tratta c'era la vulnerabilità xz qualche mese fa questa è stata trovata solo perché era codice sorgente aperto da un sviluppatore che per pura coincidenza ha trovato che è un mezzo millisecondo di differenza ha trovato ha trovato questo mezzo millisecondo di differenza nella trasmissione dei dati e dunque il codice sorgente aperto è sempre anche più sicuro e verificabile e parlando sempre di trustless io menzionerei ancora un po' la biometria alla metropolitana di mosca io sono originariamente dalla russia la metropolitana di mosca hanno fatto è possibile pagare col viso però non col telefono ma proprio col viso c'è l'entrata guardo e poi fra un secondo posso passare ma per partecipare in questo sistema io praticamente devo dare i miei dati biometrici allo stato cioè io sono sicuro che comunque li ha ma qua devo fare comunque un'azione attiva nella fine cosa è successo tutte quelle persone che hanno partecipato a questo beta test poi non è più beta test erano le prime ad essere multate dopo delle proteste perché li tracciavano con molta più facilità e la stessa cosa anche vale per per gli iphone c'è c'è face id sembra di funzionare bene apple dice che beh apple dice che è tutto sicuro che i dati non vanno a loro magari sì però nella fine non lo possiamo verificare non lo possiamo verificare questa cosa poi alcuni mi vengono mi dicono oh ma io non uso face id perché infatti i miei dati vanno da qualche parte non voglio condividere la mia biometria con apple e io gli dico ma guarda come sai che non ti scannerizza il viso anche se è spento perché nella fine tutto il codice sorgente è chiuso e non sappiamo cosa succede veramente sappiamo che apple collabora con le società non con le società con le agenzie varie agenzie americane non sappiamo a sto punto accenditi il face id che tanto ti è più comodo dunque sarebbe usare le cose col solito sorgente aperto e non fidarsi di marketing e di promozioni con open source se fosse face id o touch id o qualcosa del genere su linux perché no c'è una bella comodità e qua passiamo a simplex che io ritengo la migliore app di messaggistica che esista al mondo perché è molto decentralizzata non ha i metadati cioè i metadati che ci sono non vengono condivisi non sono visibili agli altri agli altri partecipanti della rete e inoltre non ha nemmeno gli identificativi utente cioè vuol dire che io non c'è un username come nome utente come fanno fanno dappertutto no 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 c'è una stringa molto lunga come un praticamente un indirizzo bitcoin ancora molto più lunga di quello però queste qua non sono permanenti cioè per esempio se io poi vedo che qualcuno mi spamma costantemente su un certo indirizzo io posso togliere questo indirizzo e crearne uno nuovo anzi posso crearne molteplici indirizzi per varie persone e poi spegnerli quando le voglio e accenderli non più ma comunque le posso disattivare quando voglio molto comoda come cosa e poi anche se diciamo spengono indirizzo non vuol dire che le persone che mi hanno contattato prima perdono il mio contatto no il contatto comunque rimane lì è una cosa molto molto bella molto molto comoda vi consiglio a tutti ad usarlo e infatti è una tecnologia che resiste la legislazione perché possono arrestare tutta la squadra di Simplex a Parigi e non succederà niente perché perché non hanno le chiavi non possono averle matematicamente possono torturarle quanto vogliono non cambierà niente perché la matematica non gli permette di avere questo accesso e anche peraltro sì ci sono altri diciamo app di messaggistica decentralizzati più o meno anzi non decentralizzati volevo dire end to end encrypted cioè cifrati da un lato all'altro c'è anche Whatsapp in un certo senso lo è però i metadati no ovviamente cioè loro possono essere li potrebbero anche chiedere oh cambia per favore il codice sorgente cambia il codice sorgente così magari c'è qualche no vulnerabilità sì certo noi non eliminiamo la la cifratura però però il codice sorgente cambia e dunque magari ci sarà qualche vulnerabilità come fanno con Whatsapp che non non risolvono le vulnerabilità apposta per poi avere delle possibilità per spiare in questo caso qua è anche impossibile o molto molto poco logico perché tutto il codice sorgente è visibile a tutti e dunque lo troveranno questa cosa troveranno troveranno tutto troveranno tutti questi problemi sì anche l'open source anche impedisce la sorveglianza a livello del dispositivo che purtroppo è desiderata dall'Unione Europea e l'Italia i parlamentari euro parlamentari italiani la anche sostengono dunque io vi consiglio di non dare i parlamentari euro parlamentari italiani di chiamate per dirgli di non fare questo cioè questo è un tema che da volta in volta da anno in anno viene viene discusso poi c'è una reazione sui social negativa da parte di tutte le persone che conoscono di che cosa si tratta e poi smettono di parlarne e poi fra qualche mese fanno la stessa prova e questo è già successo tre o quattro volte dunque io spero molto che non passa perché questa è una cosa molto molto pericolosa però questa cosa qua è completamente ineffettiva se tutti usassero Simplex è inutile cioè dunque serve usare già in anticipo i protocolli che funzionano nonostante tutto e poi e poi queste leggi non verranno nemmeno proposte è inutile mentre quando la maggior parte delle persone usa cose centralizzate che hanno delle ditte dietro delle chiavi dietro ovviamente che queste leggi possono avere un impatto molto negativo sulle nostre libertà e sì dunque infatti open source come opzione predefinita deve essere un'opzione predefinita cioè adesso lo vogliono fare anche sui vari sui vari computer per esempio su Mac e su Microsoft Binbos su Microsoft Windows adesso c'è Copilot adesso c'è Copilot che è una cosa che praticamente fa i screenshot ogni tot per vedere cosa stava succedendo sul computer cosa stava facendo l'utente per l'utente stesso perché così è comodo rivedere cosa ho fatto due giorni fa una spiegazione molto strana mentre sul Mac adesso c'è la possibilità di analizzare ogni immagine per testo codice QR oggetti e così via in un certo senso è molto utile questa cosa perché per esempio invece di cercare 2000 foto per trovare una specifica con quella targa io posso digitare il numero della targa e trovarla molto comodo mi piace questa cosa non dico che queste cose non vanno fatte però visto che il codice sorgente sempre dell'Apple è chiuso io non posso sapere cosa sta facendo veramente potrebbe anche trovare delle cose c'è una foto di un'arma che peraltro ho fatto al museo allora segnaliamo che questo qua ha una foto di un'arma con metadato che pesa quasi niente non deve inviare la foto deve inviare un piccolo metadato che poi peraltro potrebbe essere sbagliato anche come ha spiegato Gianmarco nella sua presentazione precedente delle varie diciamo allarmi di allarmi falsi dunque la nozione di massa di open source aiuta tutti nella fine aiuta tutti perché inoltre open source permette miglioramenti veloci viene trovato un bug viene trovato un errore si migliora se il sviluppatore se il sviluppatore originale non accetta qualcun altro fa un fork fa la sua versione prosegue e nella fine vince lui cioè open source è molto bello anche per questo motivo e parliamo parliamo un po' di navigatori web e browser ci è andato un po' Gianmarco ma io direi ancora un'altra cosa che siamo in una situazione nella quale triste nella quale ci sono solo tre motori di rendering questi tre qua Chromium Gecko e WebKit allora Chromium è di Google Gecko è di Mozilla cioè Firefox e tutti i derivati e WebKit di Apple cioè Safari allora Safari è solo su Apple e dunque Cloud Stores il navigatore questi motori devono per forza essere a codici sorgenti aperto ma comunque è limitato ad Apple dunque in pratica noi che usiamo Linux o quelli che usano Windows nella fine ci sono solo due scelte anche Edge recentemente è passato a Chromium qualche anno fa e Chromium sta mangiando tutto il mondo dunque è molto molto importante a supportare Gecko mentre esiste perché è un'alternativa perché cosa vorrebbe dire se diciamo Gecko sparisse da questa da questa questa trinità se sparisse allora praticamente beh Apple ha un po' del suo monopolio sui propri dispositivi ma allora Chromium mangia tutto e Google allora potrebbe definire tutti beh sta definendo già tutti gli standard del web per dire come devono operare sia le cose di tracciamento dei cookie non cookie stanno adesso inventando dei modi nuovi alternativi ai cookie per tracciare le persone che visitano i vari siti e poi altre cose sempre per renderle più decentralizzate più centralizzate scusatemi e dunque serve supportare Gecko e per questo io vi consiglio a usare questi due navigatori web poi ci sono delle altre che sono anche buoni ma io propongo questi due perché sono i più sicuri di tutti in assoluto Librowolf e Mulvad allora Mulvad è molto radicale per dire cancella la storia la cronologia ogni volta che viene chiuso inoltre praticamente ha una certa larghezza dello schermo della pagina web che aprite e dunque è una cosa molto molto radicale non è per tutti se io voglio essere acceso a qualche a qualche sito con Mulvad non è la cosa migliore dunque in questo caso userei Librowolf ma diciamo per le cose che non richiedono certi conti certi accessi permanenti io consiglio Mulvad sono entrambi basati su Gecko funzionano molto molto bene sono tutti open source gratuiti e più privati di tutti evitano la maggior parte della sorveglianza parliamo un po' di intelligenza artificiale per qualche momento io vi dico non nutrite la bestia che è l'intelligenza artificiale centralizzata cioè c'è GPT e tutti gli altri con i vostri dati personali usatela vabbè però non date i vostri dati personali perché questo è un grosso pericolo questo è un grosso pericolo perché se voi fornite i vostri dati gratuitamente poi verranno usati contro di noi verranno usati contro di noi come esempio basilare alzare i prezzi dell'albergo o dell'assicurazione perché sanno un certo dettaglio grazie al vostro che conoscono un certo dettaglio grazie al vostro uso oppure adesso anche creare della pubblicità iper personalizzata sia politica o qualcos'altro o sociale o di qualche altro genere così iper personalizzata che può capovolgere a 180 gradi le opinioni politiche di una persona perché questa cosa qua ha risorse limitate con il budget giusto dai partiti politici o chi siano può fare di tutto e dare ad ognuno la pubblicità iper personalizzata che non sembrerebbe nemmeno pubblicità ci sono tante truffe o così via dunque non nutrite la bestia però qual è l'alternativa per le cose che l'intelligenza artificiale ci potrebbe dare nella nostra vita che magari sì ci sono dei dati personali che dovrei dare allora in questo caso io vi consiglio ho lama che è un lama la i lama però locale cioè l'ha installata sul vostro computer pesa qualche gigabyte magari poi peserà di più perché ci sono tutti i nuovi dati e puoi imparare da tutto quello che dicete a questa i e vi può essere un assistente personale molto utile che peraltro non condivide tutti i dati con tutto il mondo e ovviamente poi tutte le ai sono più o meno open source adesso per ironia open ai sta diventando meno o meno open ma vabbè questo o lama è il miglior ai per uso personale con i propri dati molto utile e sì poi per parlare un po' del telefono il telefono è il dispositivo più pericoloso di tutti perché è quello più personale è quello che ha la maggior parte dei sensori geolocalizzazione tutte le fotocamere microfoni e così via come ha detto Gianmarco la grande soluzione è usare un telefono di google questo risolve la maggior parte del problema sono d'accordo però una piccola cosa comunque rimane direi che a questo punto senza un grande influsso di risorse questo non verrà risolto e questo si tratta delle comunicazioni del modem cellulare delle schede sim praticamente tutti i modem cellulari sono stati brevettati da due ditte da come ricordo una americana e una taiwanese e tutti questi brevetti sono iper segreti e non sappiamo cosa stiano facendo questi modem questo è una cosa super close source e ovviamente anche se qualcuno creasse un modem anche adesso open source che è totalmente possibile non verrebbe implementato dai grandi operatori mobili che ovviamente hanno certi accordi fra se stessi e anche con gli stati che probabilmente non permetterebbero una cosa del genere sulla rete che si chiama SS7 SS7 è la rete telefonica mondiale che peraltro è super vulnerabile basta pagare 15.000 dollari a mese a qualche persona corrotta che ha accesso a questa rete per poi falsificare tutti i numeri tutte le chiamate numeri di chiamate intercettare messaggi degli altri e così via è un disastro proprio questa rete è da beh ed almente è da volire almeno a questo punto da evitare ma totalmente non la evitiamo nel nostro mondo ma per il quanto possibile la eviterei userei Simplex che peraltro ha anche chiamate e Jitsi 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 è bello credo che sia stato menzionato prima e dunque questi modem cellulari sono brevettati non possiamo farci niente dunque questa cosa qua come vulnerabilità rimane per questo che Snowden non usa un telefono peraltro le schede sim c'è stata una ricerca che quando delle persone passavano a certi edifici militari le schede sim emettevano certi messaggi poco chiari dunque queste cose qua non sono private non sono sicure per niente io consiglierei se usate le schede sim usate 3-4G per le comunicazioni e non la rete regolare ma comunque anche queste cose qua sono vulnerabili ed è per questo che esiste Pegasus quell'attacco quell'attacco sull'iPhone che solo grazie a un solo messaggio può prendere accesso soprattutto il telefono e qua parlerò un po' di hardware open source ma non avrei tanto da dire perché non ce n'è tanto almeno per adesso c'è una carenza grave dal 2008 Intel ha integrato una cosa che si chiama management engine in tutti i suoi processori che è praticamente un sistema un certo sistema parallelo che ancora sempre tutto super segreto fa delle comunicazioni poco chiare ed è quasi impossibile a spegnere e questo in tutti i computer Intel dal 2008 poi AMD fa la stessa cosa ha cominciato a fare la stessa cosa qualche anno dopo e dunque qua speriamo nei processori RISC-V e RISC-V che fra qualche tempo dovrebbero sono open source e dovrebbero aiutarci a riprendere questa libertà ma non dico arrendersi anzi se vuole lavorare 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 per avere questo mondo più bello e poi accenderei per un momento al cosa avete fatto perché non ok ecco sì brevemente all'elettronica di recupero non come cosa collegata ad open source open source eh sì collegata ad open source come concetto bello filosoficamente trovare i vari scarti di elettronica per poi costruirne un dispositivo perché qual è stato il cosiddetto progresso negli ultimi diciamo 10 anzi 20-30 anni cioè sì le cose adesso sono molto più capaci ci aiutano molto di più i computer però nella fine cosa succede tutto sempre pesa molti tutti i documenti tutti i file sempre tutti i programmi in particolare pesano sempre di più richiedono sempre più risorse e dunque velocità più grandi ma questo quasi sempre è eccesso è praticamente grasso in realtà serverebbe trovare ci sono sempre delle possibilità per rendere più leggeri rendere più snelli tutti questi programmi tutti questi documenti cioè per esempio usare svg che è super leggerissimo usare txt poi dipende dal caso ma svg sono cose la grafica vettoriale una cosa fantastica perché usare un png o gpg quando c'è svg poi dipende sempre dal caso e dunque io penserei in questo modo qua almeno filosoficamente non necessariamente diffonderlo dappertutto ma almeno avere questa cosa qua in mente di rendere le cose più leggere e dunque evviva il movimento no blood tecnologia appropriata è anche una cosa che viene in mente la tecnologia deve servire l'uomo perché le tecnologie industriali e i sistemi industriali nella fine ci portano solo più danni cioè non possono essere dominati ma infatti dominano noi infatti dominano noi poi sì parlando dell'elettronica di recupero sempre il concetto è fai quello che puoi con quello che hai e c'è anche questo programma con cui ho fatto la presentazione è molto bella solo mille linee di codice e fa la cosa bene perché anche fino in fondo alla sala potete vedere ciò che ho scritto e questa è la cosa più importante dunque per concludere direi che le soluzioni le soluzioni a queste problematiche privacy riservatezza ma in genere tecnologiche arriveranno dagli artigiani digitali che oggi magari sono piccoli sono poco conosciuti ma poco apprezzati dall'ampia società ma poi nella fine saranno proprio loro a sviluppare le cose open source progetti che ci renderanno più liberi più creativi e dunque auguro a tutti i presenti nella sala di puntare sulla creazione di nuovi standard formati e protocolli grazie se avete delle domande di cosa mi sembra che io non conosco non conosco ah ma onestamente non conosco prima volta che sento però direi una cosa che le reti a maglia in inglese più conosciuto reti mesh le vedo come una cosa bellissima come concetto adesso vengono usati contro più o meno contro di noi dall'apple che adesso anche col iphone spento l'iphone è comunque in comunicazione con tutti gli airtag per dire anche se non c'è wifi non c'è niente non c'è una rete se un'altra persona è vicino all'iphone trasmetterà quell'iphone là e poi trasmetterà tramite quell'iphone là dunque adesso le reti a maglia vengono usate così ma nella fine è una cosa salvifica perché prima di tutto è una rete alternativa a qualsiasi cosa centralizzata è stata imposta o approvata dallo stato è una cosa che può esistere in parallelo e inoltre può aiutare molto nelle emergenze se una zona allagata una persona su mille solo va via accesso internet non disponibile basta che tutti si riuniscano in un certo posto facendo anche senza fare click sul proprio dispositivo basta che abbiano una certa app e tutti i dispositivi mandano i dati importanti a questo principale questa persona va da qualche altro posto si collega alla rete generale e poi trasmette il messaggio questa è una cosa bellissima io la vorrei io auguro che questa cosa va implementata il più ampiamente possibile grazie per la domanda qualche altra domanda si questa cosa del discorso tra LibreWolf e Mulvad non so se sia una cosa nuova ma io usando LibreWolf ho notato che si possono implementare sono attive come opzioni tutte le stesse cose che hai descritto si dico LibreWolf ha opzioni che permettono le stesse funzionalità che hai descritto con Mulvad non so se sia una cosa nuova allora Mulvad ha un po' di più perché infatti limita la larghezza dello schermo per eliminare i metadati il libro beh non conosco ma sicuramente Mulvad lo fa per predefinito magari l'hanno aggiunto recentemente ok 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 allora magari anche LibreWolf l'ha aggiunto però Mulvad è anche consigliabile poi nella fine usate quello quello che volete sono entrambe cose meglio basta che non usate Chrome qualche altra domanda allora abbiamo finito grazie il mio sito poi se volete vedere poi seguire le mie cose maggiormente in lingua inglese ma se siete interessati a seguirmi e contattarmi via Simplex infatti la mail non la indico poi se la volete indovinare la potete indovinare ma non la indovinate ma contattatemi via Simplex così se volete contattarmi contattatemi via Simplex grazie grazie Robert allora prima di continuare scusate un attimo prima di continuare vorrei ricordarvi che a fine dell'intervento della mattina ci sarà un brunch lunch comunque si può mangiare qualcosa insieme a noi e vi aspettiamo quindi non andate via se volete è sempre la sala qui dietro dove c'è anche l'help desk quindi spero che vi trattenete insieme a noi e poi chiamo Alfonso aspettate un attimo che non ero preparata allora chiamo Alfonso Sabato Siciliano che ci ci farà una panoramica del sistema operativo open source grazie ok grazie mi sentite? sì allora buongiorno adesso in questo talk parlerò di questo sistema operativo questo progetto open source che si chiama FreeBSD io sono Alfonso si sente? ok io sono Alfonso Sabato Siciliano sono un programmatore di questo sistema operativo in particolare sono un SRS committer vuol dire che ho i diritti di modifica della base del sistema operativo lo posso modificare sia la parte del kernel sia la parte dello spazio utente ho un contratto con la FreeBSD Foundation lo vediamo dopo per alcuni progetti che hanno accettato di sponsorizzarmi lì trovate il mio wiki il mio wiki personale del progetto dove ci raccolgo un po' tutti i progetti che faccio questo è il sommario delle cose che andremo a vedere in realtà questo è il mio primo talk in italiano che parlo di FreeBSD finora ho sempre parlato in inglese ed è anche il mio primo talk non tecnico quindi no spero che vi piacerà perché sono un po' fuori dalla mia comfort zone faremo un po' la storia di questo sistema operativo come è nato vedremo gli obiettivi di questo talk non è stato facile inquadrarlo perché comunque l'argomento è molto vasto vedremo un attimo la documentazione per FreeBSD come chiedere aiuto poi vedremo se qualcuno è interessato al codice esorgente come può modificarlo come può adattare il sistema operativo alle sue esigenze come può contribuire perché no mandare dei miglioramenti ai riposo e migliorare il sistema operativo alla fine concluderò dei progetti personali perché diciamo il sistema operativo è molto grande gli argomenti sono tanti chiaramente vi farò vedere qualcosa che ho realizzato io così se mi fate delle domande posso anche rispondervi e concluderemo chiaramente con delle facche e delle domande che cos'è innanzitutto FreeBSD FreeBSD è un sistema operativo è un sistema operativo open source è un sistema operativo diciamo appartenente alla famiglia dei sistemi operativi Unix ha più di 30 anni di sviluppo e ha un'organizzazione e uno sviluppo democratico non abbiamo bene i voli dittatori non abbiamo comandanti in seconda colonnelli generali tutto viene fatto in modo democratico ogni due anni si elegge un core team tutti i programmatori lo eleggono e loro danno un po' la linea indicazioni tecniche al progetto vediamo un attimo la storia di FreeBSD da dove nasce questo sistema operativo nel 1969 venne rilasciata la prima versione del sistema operativo Unix un sistema operativo con tante novità rispetto al tempo molte idee innovative molto importante ebbe subito un grande successo gli autori principali di questo sistema operativo hanno venuto il premio Turing proprio per le loro idee e il loro contributo all'informatica nel 1964 l'università della California Berkeley acquista una licenza per utilizzare il sistema operativo Unix all'università si costituisce un gruppo di ricerca che sviluppa dallo Unix un proprio sistema operativo il Berkeley Software Distribution anche qua vengono create delle idee nuove implementazioni nuove implementazioni che sono ancora considerate punti di riferimento ma sfortunatamente all'inizio degli anni 90 sorsero dei problemi regali tra l'università e l'azienda licenziatrice di Unix il gruppo di ricerca si sciolse ma per fortuna nel 1993 tre programmatori fondarono il progetto che oggi FreeBSD attualmente è utilizzato per sistema embedded per desktop io ce l'ho installato sui miei computer sul mio portatile e l'ho utilizzato per server è sviluppato da migliaia di programmatori sparsi in tutto il mondo diciamo sono i contributors di questi c'è esiste un gruppo di qualche centinaia che sono appunto i programmatori come me con permessi di modifica che sono i committers se andate online chiaramente potete trovare chi usa FreeBSD perché lo usa come lo usa si va chiaramente dalla grande multinazionale all'appassionato di Unix che vuole provare questo sistema operativo invece di mettervi le immagini i log delle varie aziende che lo usano ho preferito mettere un po' l'uso che ne faccio io che ne ho fatto degli anni vedete alcuni dei miei dispositivi che utilizzo un appunto installato sopra FreeBSD qual è l'obiettivo di questo talk? Allora FreeBSD è un sistema completo che vuol dire all'interno ci troviamo nei suoi sorgenti tutto il necessario non è un aggregatore che prende vari pezzi e li mette insieme quindi chiaramente c'è un kernel chiaramente con tutti i suoi sottosistemi un sottosistema audio un sottosistema video sicurezza memoria file system eccetera tutta la parte dello spazio utente tutte le utility librerie la libreria C l'installer il partizionatore e quant'altro i componenti necessari al sistema operativo che non sono presenti non vengono sviluppati nativamente quello che si fa vengono presi vengono adattati e vengono inseriti sempre nel sorgente di FreeBSD poi chiaramente abbiamo tutto un set di porti e pacchetti già pronti per permettere chiaramente agli utenti di installare in modo agevole software di terze parti su FreeBSD giusto qualche esempio chiaramente Firefox Gimp LibreOffice eccetera c'è tutta una documentazione molto accurata abbiamo sia i classici manuali di Unix sia abbiamo documentazione online e chiaramente abbiamo anche un sito web qual è l'obiettivo di questo talk chiaramente non è possibile parlare del sistema operativo nella sua interezza sarebbe troppo grande quindi l'obiettivo che mi sono dato è quello di dare una panoramica in particolare cosa voglio descrivermi immaginiamo di essere un utente che non conosce FreeBSD vuole scaricarlo vuole installarlo vuole utilizzarlo per la prima volta quindi chiaramente il punto di partenza sarà il sito web www.freebsd.org e lì andremo a vedere tutte le risorse necessarie per iniziare a muoverci con questo sistema operativo una volta installato supponiamo verso la fine del talk che questo utente sia un programmatore come vi dicevo voglia modificare il sistema operativo open source perché no lo vada ad adattare le sue esigenze e magari vuole anche contribuire lo vuole migliorare vuole mandare dei miglioramenti online ed inserirli nel sistema operativo questo è il sito diciamo il punto di partenza partiremo sempre dal sito www.freebsd.org lì vi ho messo una freccia chiaramente no il punto di partenza ci scarichiamo FreeBSD download FreeBSD ovviamente è gratuito open source ce lo possiamo scaricare andiamo nella pagina dove ci sono le varie immagini la versione attuale di release è la 14.1 che è indicata per la maggior parte degli utenti quindi una volta cliccato qui chiaramente a sinistra vedete le varie architetture sopportate a destra vedete nella colonna di destra la varie documentazioni chiaramente per l'installazione note di rilascio hardware compatibile note per l'installazione e quant'altro una volta cliccata ad esempio sul primo item a sinistra MD64 andiamo in questa pagina qua abbiamo a disposizione varie immagini ISO che possiamo scaricare chiaramente solo l'installer cd-rom dvd stick msb eccetera per le persone più odaci possono provare la versione per gli sviluppatori che attualmente è la 15.0 la current chiaramente vi ripeto questa è la versione per i sviluppatori ogni volta che viene fatto un miglioramento viene fatto un commit viene testato all'interno di quella versione là quindi potrebbe succedere che qualcosa non mi funziona ma comunque sono i più aggiornati le immagini nell'immagine di sotto viene aggiornata settimanalmente una volta se decidete di scaricarvi questa qua la current che è tra l'altro quella che ho anche io installato ovviamente quando la vorrete aggiornare dovete scaricare i sorgenti da capo e compilarvi tutto voi da capo e ricostruirvela voi in genere io una volta al mese mi scarico tutti i sorgenti mi ricompilo tutto spazio kernel spazio tent mi ristallo tutti i pacchetti e i programmi e vado avanti così andiamo un attimo alla documentazione ritorniamo sempre su www.freebsd.org lì vi ho messo una freccia troviamo documentazione ci clicchiamo sopra vi si apre questa pagina qua in particolare vi ho messo tre pagine tre frecce quelle diciamo sono le tre macro categorie in cui è raggruppata la documentazione di FreeBSD le vedremo brevemente tutti e tre la prima a sinistra vedete dei libri le prime due libri articoli sono risorsi online la seconda invece sono dei manuali che comunque sia formato online siano i tradizionali manuali di Unix a cui si può accedere da terminale partiamo da quello centrale gli articoli quindi clicchiamo qui clicchiamo al centro articoli si apre questa pagina io l'ho divisa in due c'è un nutrito numero di articoli come è fatto un articolo questo per esempio è l'articolo dei font chiaramente sono delle pagine web a destra compaiono dei capitoli e dei paragrafi possiamo cliccarci e andiamoci a leggere la documentazione in questo caso qua l'esempio che vi ho proposto è quello dei font queste sono altre sempre questo discorso dei font a sinistra vedete vengono illustrati i vari comandi che si devono lanciare i vari file che vanno configurati a destra trovate delle ulteriori spiegazioni vi dicevo il numero di articoli è abbastanza nutrito sia per diciamo utenti nuovi utenti esperti programmatori amministratori e quant'altro ad esempio troviamo come contribuire a FreeBSD la guida per il programmatore come costruirsi il proprio server come lavorare con il server di stampa come gestita la memoria virtuale come progettata la memoria virtuale di FreeBSD una breve spiegazione di BSD del passato l'ultimo articolo è quello dei font che vi ho proposto prima FreeBSD per utenti nuovi sia di FreeBSD che di Unix il discorso del disco rigido una quick start per gli utenti di Linux al centro vedete release engineering ci descrive come il team del rilascio decide come e quando rilasciare le versioni di FreeBSD lo status report e quant'altro infine gli ultimi due sono molto importanti perché ci fa capire come approcciarci alle mailing list le mailing list le vediamo dopo ci dedichiamo una parola in più perché scrivendo là dentro i vostri messaggi le vostre email verranno letti dai programmatori le persone che sviluppano FreeBSD continuiamo c'è chiaramente una descrizione del file system un'introduzione al nano USB che sarebbe una versione embedded di FreeBSD vado avanti velocemente il primo articolo qua se volete creare dei servizi per FreeBSD volete far partire stoppare e riavviare i demoni se andiamo tanto a parlare di questi demoni di Unix dal primo articolo l'anno possiamo capire come crearli qui c'è quant'altro volume manager di nuovo il disco e come riportare nell'ultimo è molto importante se vedete l'ultimo link ci descrive come scrivere dei problem report se troviamo dei problemi dei bug all'interno del sistema operativo l'ultimo articolo ci descrive come scrivere un report efficace in modo tale che i programmatori possono riprodurre il problema e chiaramente possono risolverlo facciamo un passo indietro da articoli passiamo a books anche qui c'è molto in particolare vi propongo lo vediamo un attimo con più attenzione solo quello là il FreeBSD handbook che sarebbe il libro principale di FreeBSD questo vi dicevo è il libro principale orientato per gli utenti e c'è praticamente tutto dopo lo vediamo ci sono dei suggerimenti ci sono delle immagini è spiegato esattamente per fare ogni cosa cosa si deve installare quale farle modificare e quant'altro il libro si compone di 34 capitoli 4 appendici diviso in 5 sezioni chiaramente ci vorrebbe un talk dedicato solo per parlare dell'handbook però ci diamo uno sguardo veloce questa è la prima sezione chiaramente il getting start un'introduzione come installare FreeBSD le basi come installiamo porte e pacchetti sistema grafico network wayland eccetera quindi il capitolo 2 ci dice chiaramente come installare FreeBSD una volta che ci siamo scaricati l'iso questo con cui ho messo un frammento per capirci per installare FreeBSD basta leggere il capitolo 2 se vedete l'immagine a sinistra quella è una tipica sezione per ogni no menu che ci uscirà durante l'installazione lui ci spiegherà cosa rappresenta quel menu ci darà dei suggerimenti ci spiegherà no come approcciarsi a quelle domande in genere sono domande che lui ci fa ci dice come e dove fare debug trovare le risorse se ci sono dei problemi il processo di installazione di FreeBSD è più o meno qui vi ho messo qualche screenshot che ho preso dall'handbook concettualmente si tratta di andare a scrivere all'interno di queste dialog scaricare dei programmi decidere delle voci nei menu se non sbaglio se vedo bene in basso a sinistro la vedete il partizionatore invece qui in basso a destra vedete un po' la configurazione delle reti in alto a destra come lui ci scarica i pacchetti da internet quella è la base del sistema operativo la parte centrale e li va ad installare sulla nostra macchina il capitolo quarto riguarda i porti e i pacchetti sto sempre nell'handbook FreeBSD fornisce decine di migliaia di porti e pacchetti già pronti per l'installazione vediamo un attimo questo discorso dei porti e dei pacchetti lo facciamo con un esempio pratico cdusrport ls chiaramente vi ho messo l'immagine a destra grafica per vederla meglio qui ci sono gli oltre 30.000 pacchetti che fornisce FreeBSD sono organizzati per categoria adesso vado a memoria perché non riesco a leggere dovrebbe esserci assistibilità www l'organizzazione dei port multimedia sistema grafico chat eccetera andiamo in uno di queste cartelle ci clicchiamo dentro ad esempio cd editors new vim scrivo make install se il parchetto prevede delle configurazioni aggiuntive che mi permettono di costruirlo con determinate configurazioni mi si aprirà questa finestra qui vado a selezionare vedete sempre quella dialog testuale mi consentirà di scegliere come costruire questo pacchetto questo port una volta che clicco su ok chiaramente lui in automatico il framework dei port scaricherà compilerà installerà il port ovviamente si occuperà anche delle eventuali dipendenze terminata l'installazione possiamo dare un make clean per pulire chiaramente i file che sono stati creati durante la costruzione del pacchetto ovviamente non è necessario compilare tutto abbiamo già dei pacchetti già pronti il gestore dei pacchetti si chiama PPKPG qui vedete lo stesso esempio di NeoVim PPKPG solo NeoVim chiaramente no lui ci chiederà se è riuscito a vederlo in basso o al centro vuoi procedere con l'installazione clicchiamo sì lui si scaricherà il pacchetto ovviamente eventuali dipendenze e ci installerà tutto nella pratica questa è una domanda che viene fatta spesso una fac qual è la differenza tra i porti e i pacchetti in realtà che cos'è questo port precompilato scusatemi questo pacchetto precompilato è il port compilato con le impostazioni di default andiamo avanti questo è il capitolo 8 sempre dell'endbook ad esempio se vogliamo installare dei driver grafici qui c'è tutto il set io come dei driver supportati da FreeBSD a destra vi ho messo un altro screenshot per capire come funziona la cosa ad esempio con i drive di Intel ti dice il modulo che dobbiamo installare cosa dobbiamo scrivere come dobbiamo configurare per avere a disposizione i drive e i traffici di Intel andiamo nella seconda sezione i common task desktop environments multimedia configurazione del kernel Linux il kernel di FreeBSD sistema di stampo compatibilità binaria con Linux e Win quindi nel desktop qui vi ho messo come si installa ad esempio XFCE vedete a sinistra ci dice esattamente come installarlo quale comando lanciare quali file configurare e a destra come dobbiamo fare ad avviarlo dobbiamo in pratica fare con l'endbook un semplice copia e un collo multimedia capitolo 9 qui chiaramente c'è come settare la scheda audio come settare i video come fare conferenze e meeting e come lanciare lo scanner qui a destra vi ho messo un'altra immagine sempre presa dall'endbook questo vedete queste sono le immagini che troverete se andate a leggere l'endbook la terza sezione adesso andiamo più velocemente c'è il tutto discorso dell'amministrazione configurazione di vari servizi sicurezza sicurezza il processo di boot jail geom lo ZFS file system altri file system e l'utilizzazione D3S per il debug e quant'altro l'ultima parte la parte 4 tratta un po' diciamo il discorso della rete email network eccetera l'ultima parte sono le appendici ad esempio qui ho messo l'immagine come ottenere FreeBSD là ci sono i comandi git se volete no scaricarvi i soggetti compilarveli e andare a vedere un po' come è fatto il sistema operativo ritorniamo sempre su docs.freebsd.org vediamo l'ultima parte diciamo della documentazione sono i manuali i manuali sono disponibili ve lo dicevo prima una volta installati sul computer ce li troviamo nel classico terminale come vedete a destra oppure cliccando qui su questo link qua andiamo sull'immagine a sinistra abbiamo l'interfaccia web per i manuali sia a sinistra che a destra vedete lo stesso manuale online all'interno di un terminale i manuali sono organizzati per sezione fate attenzione a questa cosa qua ad esempio un manuale può avere lo stesso nome ma viene a differenziarlo dalla sezione in cui si trova ad esempio quello che vedete a sinistra è BS Dialog 1 cioè l'utility quello che vedete a destra è BS Dialog 3 cioè la libreria qui quella che vedete a sinistra è CCTL 8 cioè l'utility per configurare il sistema il comando quello che vedete a destra è CCTL 9 cioè sarebbe l'interfaccia del kernel kernel developer manuals per andare a scrivere CCTL nello spazio kernel un'altra risorsa online è il wiki di FreeBSD vi ho scritto il link sopra wiki.freebsd.org in realtà il wiki è nato come risorsa per i programmatori per condividere lo stato dei progetti in corso tuttavia adesso si possono trovare delle pagine interessanti diciamo anche per gli utenti la pagina che vedete che ci ho fatto lo screenshot ad esempio l'ho presa dalla pagina del laptop ci fa vedere tutti i laptop con cui si è provato FreeBSD tutte le problematiche dove ha funzionato bene e dove ha funzionato male quindi questa vi riporto al link del wiki qua ci trovate varie sezioni è pensato vi ripeto come un punto di confronto per i programmatori o capire a che punto siamo con lo sviluppo ma comunque ci sono delle pagine interessanti come questa qua dei laptop dei portatili dove è stato provato FreeBSD andiamo un attimo alla sezione degli aiuti e dei contatti qui venne ho proposte cinque i primi quattro sono insomma sia contatto ma anche per aiuto l'ultimo è il problem report ve lo dicevo prima quando parlavamo di articoli se troviamo bank un problema in FreeBSD possiamo riportarlo là vediamoli brevemente la prima risorsa che vi metto è il forum forums.freebsd.org chiaramente tutti questi link che metto sono accessibili dalla home page se andate dal menu della home page ci trovate tutti questi link diciamo il forum qui non ci trovate programmatori raramente i developers i committer di FreeBSD vanno sul forum ci però trovate tutto un discorso di utenti che utilizzano FreeBSD il forum è molto frequentato è organizzato chiaramente per sezioni come tutti i forum diciamo questo è un primo aiuto ci sono anche degli utenti abbastanza esperti danno anche dei consigli a volte ho dei problemi cerco su google mi riporta sul forum principalmente per il discorso del grafico e alcune volte ho trovato anche delle soluzioni interessanti delle discussioni interessanti però vi ripeto qui non ci trovate programmatori ci trovate gli utenti il server di Discord dovrebbe essere l'ultimo che è stato aggiunto andate sempre su wiki.freebsd.org slash discord vedete come accedere a questa diciamo chat moderna anche qui non ci trovate i programmatori di FreeBSD o meglio ne trovate tre o quattro per lo più qui sono molto vedo la percezione che siano molti ragazzi giovani per lo più si parla anche di argomenti interessanti per FreeBSD che magari una persona non si aspetta trovate tutta una comunità di videogiocatori che giocano online già giocano su videogiochi installati su FreeBSD c'è una comunità molto giovane qua ci sono tre o quattro programmatori che in genere la frequentano sono anche top developer questa qua invece list.freebsd.org questo diciamo è il canale principale di comunicazione andate su quella lista qui non vi ho messo tutte le liste le liste sono tante chiaramente sono raggruppate per argomento se scrivete là sopra ovviamente questo va scritto tutto in inglese la leggerà e se diciamo è la vostra considerazione importante vi risponderà un programmatore di FreeBSD qui vi rilascio la lista vi potete registrare a quelle meno in inglese a quella che siete interessati ad esempio io sono registrato a quell'hackers quella di sviluppo l'accessibilità multimedio e quant'altro a destra chiaramente vi ho messo il link che vi esce dal sito di FreeBSD dove no c'è tutta la storia vengono conservati gli archivi tutte queste discussioni nelle liste l'ultima risorsa sono chiaramente la chat l'IRC diciamo questo è uno strumento che in passato veniva chiaramente molto più utilizzato ve l'ho messo perché perché anche qui ci sono i programmatori di FreeBSD se andate all'interno di quei canali su IRC dovrebbero essere su libera f.net entrate in quei canali ci trovate i programmatori di FreeBSD io non lo utilizzo tanto questa qua perché perché qui chiaramente c'è un discorso di orario dipende a che ora vi mettete potete acchiappare i programmatori americani i programmatori europei oppure invece noi i programmatori asiatici io preferisco come alcuni danno i consigli di scrivere sempre nella mailing list così no sicuramente fare il giro del mondo e ce l'andiamo a vedere tutti nell'IRC siamo sempre vincolati al time zone al fuso orario quindi no dobbiamo capire un attimo chiacchiappiamo in quel momento però anche questa è molto frequentata e anche qui potete parlare se lo trovate direttamente con il programmatore che ha implementato quello specifico sotto sistema di recente io mi sono confrontato ad esempio con il programmatore che lavora sul sottosistema video avevo dei problemi con la mia scheda video mi sono messo in comunicazione con lui e abbiamo risolto il problema dovrebbe essere francese quindi ci troviamo nella stessa spazio time zone nel stesso fuso orario se trovate dei problemi per FreeBSD quello è il sito bugs.freebsd.org è Bugzilla la piattaforma è Bugzilla chiaramente mi sembra che dovete registrare ma potete farlo anche in modo anonimo nickname e password se guardate nell'immagine a destra dobbiamo per essere presi in considerazione dobbiamo fare attenzione a mettere il nostro problema nella sezione giusta quindi se la base del sistema se riguarda la Comuniti è un problema di documentazione quelle che abbiamo visto noi oppure un problema di porte e pacchetti passiamo al codice esorgente ci stiamo avvicinando verso la chiusura del talk il codice esorgente chiaramente ve lo dicevo all'inizio FreeBSD è un sistema operativo open source dove posso andare a vedere questi codici esorgenti come è realizzato questo sistema operativo sgit.freebsd.org guardate nelle immagini per piacere se guardate in basso quelli sono i tre repository con cui è organizzato il codice di FreeBSD li vediamo un attimo brevemente tutti e tre il primo è il doc il secondo è il port e il terzo è l'SRC la base del sistema operativo quindi quello che si chiama doc sgit.freebsd.org è il primo che vedete qua chiaramente qui che cosa c'è qui dentro c'è il codice del sito web c'è il codice di tutti quei manuali in formato web online che abbiamo visto prima li trovate in questo archivio qua i programmatori che hanno il permesso di modificare questo archivio qua si chiamano appunto doc committers poi l'archivo dei port dove ci sono tutti quei 30.000 port già pronti per l'installazione sgit.freebsd.org ports si chiamano i ports tecnicamente lo scriviamo così come lo vedete in alto a sinistra per capire qual è la sezione del sistema operativo i committers che hanno i permessi di modificare questo report questo repository si chiamano porters quindi qui chiaramente ci trovate una cartella con tutte quelle categorie che vi dicevo prima qui vedo editors accessibility poi un'area cinese eccetera questo è un tipico port vedete sono entrato nella cartella di un port questo è come viene diciamo costituito un port concettualmente nella sua forma più semplice in genere quando un programma è nativo per freebsd come questo qua lo vediamo dopo il port è fatto semplicemente da quattro file c'è chiaramente un makefile che dice come scaricare e compilare questo programma in alto a destra c'è un file che è una breve descrizione lì vedete il file che ci dice il file che questo port andrà a installare in basso non si vede tanto ma ci fa essere sicuro che abbiamo scaricato il programma corretto fai dei check sullo scaricamento poi alla fine c'è l'SRC era l'ultimo repository e questo è il sistema operativo la base del sistema operativo io ho permesso di modificare questo repository qua qui chiaramente c'è il kernel e c'è insomma tutto il discorso del sistema operativo nello spazio utente programma di installazione librerie librerie AC partizionatore e quant'altro file system eccetera queste qua se vedete sotto le cartelle quelle in blu scusate ecco qui queste cartelle qua in blu le faccio un po' più grandi così le vedete meglio questo è il sorgente di FreeBSD i nomi delle cartelle no si spiegano da soli chiaramente in BIN ci saranno gli utili libri e le librerie in BIN altre cose in SIS là se vedete alla fine verso il basso compare SIS e in quella cartella alla SIS c'è il kernel ora non si vede tanto bene ma dopo vi propongo un altro screenshot dove si vedono anche le cartelle del kernel dove sono questi sorgenti chiaramente sono online se durante l'installazione abbiamo scelto di installarli questi sorgenti ce li troveremo anche nella nostra macchina ok quindi la dock si troverà in USR dock i ports si troveranno in USR ports prima vi ho fatto vedere un esempio di come si installa un port e la base quindi kernel spazio utente in USR SRC il kernel si troverà in USR SRC SIS adesso la domanda è ma come si può modificare la base del sistema operativo supponiamo voglio modificare un utility voglio modificare una libreria perché no voglio cambiare il kernel voglio giocare con il kernel già ve l'annuncio è veramente semplicissimo parto da una cosa che mi lessi su un social network un paio di anni fa durante l'epidemia un utente su un social network chiese un aiuto erroneamente questo utente che cosa aveva fatto aveva cancellato il comando LS no quello là che ci lista le entry in una directory no i file in una directory gli diedero molti suggerimenti alcuni erano anche interessanti ma principalmente dicevano di andare a prendersi questo LS da altre fonti chiaramente io ho risposto chiaramente ho detto ma freeBSD un sistema operativo completo tutto il necessario nei suoi sorgenti molto semplicemente andiamo cd usr src bin ls make make install e chiaramente ci ritroviamo ls all'interno del nostro sistema operativo ce la troviamo ristallato nel caso che i sorgenti non ci siano sulla nostra macchina basta un git clone chiaramente sempre da quel ripositor che vi ho fatto vedere prima ce l'andiamo a mettere usr src e ci ricompiliamo il nostro ls supponiamo ad esempio qui facciamo un altro esempio di voler modificare l'installer voglio creare il sistema operativo alfonso bsd dove si trova l'installer come faccio a modificarlo cd usr src usr bsd stall quello che vedete là è il codice ad esempio del programma dell'installer di freebsd con gli script in realtà qui non è solo c l'installer di freebsd è fatto da molti script del terminale la shell sh posix poi chiaramente c'è il partizionatore e quant'altro per quanto riguarda il kernel invece andiamo là cd usr src sys qui penso che i nomi delle cartelle si vedono un poco meglio quindi chiaramente anche qui i nomi delle cartelle non sono abbastanza non spiegano cosa c'è dentro ad esempio i 2md64 arm c'è il discorso dei davis driver nfs il network file system dovrebbe esserci la parte di zfs il virtual tel il virtual console e quant'altro quindi dei nomi già capiamo no dobbiamo andare a cercare quello che vogliamo alternativamente se vogliamo trovare una chiamata di sistema ad esempio voglio modificare una chiamata di sistema andiamo online cerchiamo freebsd system call ci porterà tra i primi risultati quel blog là quindi ottengo quella tabella là dove per ogni chiamata di sistema di freebsd nella colonna di sinistra ci trovo il link al manuale nella colonna di destra ci trovo l'entry point di quella chiamata il file che contiene l'entry point di quella chiamata il punto di entrata di quella chiamata di sistema quindi chiaramente ci metto là posso andare a vedere come è stata realizzata posso modificarla e perché no partire da quell'esempio e tirarci noi delle chiamate di sistema quando no ho fatto tutto questo discorso sono andato nei sorgenti a questo punto vi dicevo il tolco non è tecnico non mi metto ad aprire i file in C mi modifico i miei file a mio facimento mi modifico il sistema operativo come posso fare a ricostruire tutto attenzione non solo il kernel proprio tutto il sistema operativo vado in quel file che vi ho scritto là cd.usr.src ci troverò il makefile all'inizio di quel makefile ci sono scritti quegli 11 comandi quegli 11 comandi ricostruiscono l'intero sistema operativo build world ricostruisce spazio utente libreria utility e altro build kernel costruisce il kernel installo il kernel faccio il reboot riavvio la macchina aggiorno i file di configurazione installo lo spazio utente faccio ripartire l'aggiornamento dei file di configurazione cancello i vecchi file che non mi servono più riavvio e vado a cancellare anche le vecchie librerie che chiaramente non mi servono più su questo dobbiamo fare attenzione se sappiamo che qualche programma di terze parti un utility che ci siamo installati tramite porto pacchetto utilizza queste librerie a questo punto vi dicevo vogliamo anche contribuire mi sono scaricato con FreeBSD l'ho modificato ho trovato degli errori ho fatto dei miglioramenti perché no ho scritto un nuovo Davis Driver lo voglio condividere lo voglio rimandare sui ripostori voglio contribuire allo sviluppo del sistema operativo quindi chiaramente dobbiamo inviare le nostre patch i nostri miglioramenti andiamo su quel sito là che vi ho scritto al secondo punto wiki.freebsd.org fabricator vi ho messo uno screenshotto a sinistra semplicemente seguiamo le indicazioni che ci dice in quel wiki anche qua facciamo un copia e incolla ci aiuterà a creare una patch che in pratica è un diff di git chiaramente con le nostre modifiche a questo punto devo andare su quel sito che vedete in basso review.freebsd.org e carico la diff il sito è questo qua qui vi potete registrare è accessibile a tutti chiunque può registrarsi a fabricator vi dicevo lo sviluppo e l'organizzazione di FreeBSD è democratica non ci sono benevoli dittatori non ci sono generali comandanti capi in seconda ognuno può svilupparlo quindi una volta caricata la nostra modifica in fabricator questo è quello che appare chiaramente vedete le modifiche tra il vecchio file e le modifiche che voglio fare io questa è una diff vera che ho caricato io a questo punto chiunque può commentare la vostra modifica ora non è evidente perché la modifica andava bene ma sotto ogni linea che io voglio modificare chiunque può scriverci un commento sotto può bloccare questa modifica lo blocca c'è una spunta che dice blocco questa cosa non va bene può richiedere delle modifiche le discussioni sono molto tecniche e chiaramente riguardano il codice che è stato inserito è importante quando sottomettete una review inserire anche il piano di testing che avete fatto questa è la stessa review con i testing che ho fatto io e dare anche una motivazione tecnica perché state facendo quel cambio questo dovrebbe essere un fatto dei lavori al programma di installazione di FreeBSD una volta che la patch viene approvata si può procedere con il commit chiaramente il commit va nel branch current che sarebbe il mind git eccolo qui questo è il commit di quella review che vi ho fatto vedere prima se guardate a sinistra nel messaggio di commit è indicato chi ha visto la mia review chi ha visto la mia modifica chi l'ha provata e c'è anche il link alla review se qualcuno vuole vedere la discussione di questa modifica va a cliccare là sopra e vede tutta quella discussione in fabricator ovviamente a destra non c'è quello che ho modificato se vogliamo invece contribuire alla documentazione mi sto riferendo al sito web e a quei manuali online web che abbiamo visto prima andiamo di nuovo su doc.freebsd.org andiamo su libri e c'è un intero libro che descrive proprio questa cosa qua come contribuire nel repository della documentazione il libro è quello là ve lo potete leggere la procedura per sottomettere una modifica è un po' quella là che vi ho fatto vedere prima si procede tramite fabricator chiaramente deve esserci un programmatore che ha permesso di modificare quel repository parte una discussione se la vostra modifica è buona porta un contributo perché no si fa il commit si migliora per il discorso dei port si va sempre su docs.freebsd.org andiamo sempre su libri e c'è un libro apposito che descrive proprio come creare dei port come aggiornare dei port e poi chiaramente come no il processo per farli inserire in freebsd questo libro è un po' più grande chiaramente perché un programma può essere scritto in tantissimi linguaggi può essere uno script può essere una libreria può essere un modulo del kernel e quant'altro questo manuale è un po' più grande del precedente le patch per i port non vanno su fabbricator in genere vanno applicate anche su bugzilla chiaramente dobbiamo mettere una descrizione dei cambiamenti e i test che abbiamo eseguiti questo è un altro port che ho aggiornato in passato li vedete i test che ho fatto qui a destra c'è il programmatore allora io non ero un committer che no si è letto le mie modifiche e ha fatto il commit qui passiamo un attimo con i progetti personali abbiamo capito il sistema operativo è grande qui vi propongo alcuni nuovi un po' la mia esperienza con FreeBSD dei progetti che ho realizzato io così magari se mi fate delle domande sono anche in grado di rispondervi diciamo io uso Unix dal 2003 li ho utilizzati praticamente tutti Linux OpenBSD FreeBSD NetBSD tutte le distribuzioni di Linux dal 2017 ho iniziato ad utilizzare stabilmente FreeBSD come sistema principale i nostri miei computer e il mio portatile allora facevo un grande uso di questa utility che è un utility che utilizza quella chiamata di sistema CCTV che cosa fa questa utility e quindi no la chiamata di sistema associata permette di conoscere impostare lo stato del kernel di FreeBSD a runtime i parametri per questa CCTV sono proprio migliaia siamo nell'ordine 10.000 20.000 30.000 non c'è un numero preciso tra un attimo vediamo perché non esiste un archivio o una lista che li documenta tutti perché? perché questi parametri sono dinamici dipende dalla versione del sistema operativo dalle opzioni con cui ho compilato il kernel principalmente dipende dall'hardware sottostante e dalle altre configurazioni si può dire che nessun computer ha gli stessi parametri per CCTL perché è importante questa chiamata di sistema e quindi l'utility lo vediamo qua in questi due esempi che vi ho fatto quelli che vedete là a sinistra al centro sono due esempi di questa utility che chiaramente utilizza l'unonima chiamata di sistema nel primo caso mi faccio dire il numero di socket aperti sul mio portatile nel secondo caso vado ad impostare il massimo numero di socket che si possono aprire sulla mia macchina supponiamo che non esistesse CCTL allora che cosa devo fare nel primo caso dovrei scrivermi una chiamata di sistema perché perché quella variabile che vedete sopra num opens socket chiaramente una variabile che si trova nel kernel per conoscere il suo valore nello spazio utente devo scriverci una chiamata di sistema che mi passa quel valore sopra nello spazio utente nel secondo caso invece quando vado a settare il massimo numero di socket che si possono aprire chiaramente lì cosa dovrei fare siccome il sistema operativo è scritto in C chiaramente ci sarà una costante che definirà quel valore io devo trovare quella costante modificare il valore e ricompilare il kernel queste due cose le evito creare una nuova chiamata di sistema andare a ricompilare il kernel utilizzando la CCTL i parametri per questa CCTL vi dicevo sono decine di migliaia e sono gerarchizzati in un Mib in un Management Information Base questo giusto per esempio è un sottoalbero del bluetooth vi dicevo i parametri permettono di conoscere e impostare ogni sottosistema del sistema operativo sono veramente migliaia audio video network singurezza virtualizzazione file system eccetera il primo programma che ho scritto per FreeBSD che chiaramente l'ho scritto per me questi sono progetti personali una versione grafica di questa CCTL perché essendo migliaia volevo un modo agevole per andarveno a navigare quest'albero in realtà nel kernel l'ho implementato con una lista di alberi era una lista di alberi adesso mi sembra che l'hanno cambiato da qualche settimana quindi ho scritto il programma grafico che mi dà una rappresentazione grafica di questo albero a destra qua vedete no tutte le varie flag che si possono fare con questi parametri tutto quello che ci posso fare li posso leggere scrivere li posso settare chiunque devono essere settati solo quando il kernel si avvia e quant'altro non voglio scendere nel tecnico del C del kernel eccolo qui chiaramente questo progetto qua ve lo potete scaricare si trova nei porti pick up a g-stool cctl view oppure chiaramente non nei porti ve lo scaricate e ve lo compilate voi mentre facevo questo cctl view stavo sviluppando questo programma grafico collateralmente è nata anche la libreria lib cctl mib info 2 che mi dà mi ricostruisce nello spazio utente il mib che si trova nel kernel e mi dà tutta una serie di informazioni per lavorare con i suoi paragrafi ad astra vedete dal file il main che mi serviva a testare quella libreria è nata una nuova cctl n cctl una nuova utility che chiaramente anche questa qua l'ho scritta io questa non era voluta è nata per caso vi faccio notare a destra qua questo è un esempio di utilizzo di n cctl che utilizza due funzionalità chiave di free bsd un elib che so nato elib nv qui sei riuscito a leggere no c'è scritto campania ci sono no le province Avellino Benevento Caserta Napoli e Salerno cioè per testare questa utility no che ho fatto ho preso mi sono scritto un modulo che chiaramente nel kernel che va andato nel lib dinamico e è andato ad aggiungere dei nudi a quell'albero ci ho aggiunto le province della campagna per testare questi utility quindi Avellino Benevento Caserta Napoli e Salerno per testare questi utility e questa libreria chiaramente anche questi due programmi questa libreria e questi utility si trovano nei porti di free bsd un semplice pick up gstool e ve li andate ad installare mentre lavoravo sempre a questi tre progetti c'è un'interfaccia nel kernel che chiaramente dal kernel esporta nello spazio utente le proprietà di questo MIVE per andare ad esplorare e per lavorare con cctl il problema è che questa interfaccia non piaceva ci dà dei problemi di efficacia lo vedete a sinistra fa andare l'utility in falsi negativi ed è anche molto lenta lo vedete nell'immagine a destra quindi che cosa ho fatto mi sono scritto una interfaccia nel kernel no ne ho scritto io una nuova appunto per passare le proprietà di questi noti dal kernel allo spazio utente a sinistra vedete cctl la sezione 4 del manuale che appunto sono le interfacce del kernel a destra lo vedete cctl3 che appunto è una sorta di interfaccia sono tante macro nello spazio utente per utilizzare nello spazio utente quell'interfaccia nel kernel che cosa è successo questa interfaccia che ho creata l'ho presentata la volevo presentare nel 2020 nel BSD-CAM ogni anno si tengono tre conferenze dedicate ai sistemi operativi BSD una in Nord America si tiene in Canada si tiene sempre ad Ottawa una si tiene in Europa quest'anno si è tenuta a Dublino una si tiene in Asia principalmente in Giappone volevo presentare chiaramente questa nuova interfaccia a questa conferenza di BSD però chiaramente c'era l'epidemia non si poteva andare in Canada la conferenza si è fatta online quello che è successo è che non riuscivano a registrare dal mio microfono con FreeBSD con Linux questi problemi risolvevo velocemente come con AlzaMixer quindi ho scritto MixerTui questo programma che vedete a destra che è il corrispondivo di FreeBSD di quello che per Linux è AlzaMixer anche questi programmi che vi ho fatto vedere si trovano chiaramente nei porti nei pacchetti e ve li poter installare velocemente altri progetti personali questo è più recente uno degli ultimi io utilizzo chiaramente FreeBSD sul mio portatile ho iniziato a scrivermi una libreria ed è un programma in Utility che fornisse delle all'interno del terminale delle dialog text-to-interface che mi permettesse di creare dei programmi per configurare per installare un sistema desktop in modo automatico nel più breve tempo possibile questi dialog erano nati appunto per me per un uso personale ho iniziato ad aggiungere sempre nuovi dialog a un certo punto allora non ero un programmatore di FreeBSD un programmatore di FreeBSD che poi è diventato il mio mentor che mi ha dato i permessi mi ha sponsorizzato per i permessi di modifica ha detto guarda noi nella base di FreeBSD ne utilizziamo queste dialog perché ci servono nel programma di installazione ci servono per vari utility l'unico problema è che noi ce li abbiamo in base ma la licenza non è quella di FreeBSD non è la nostra vorresti continuare a scrivere una sorta di clone così inseriamo il tuo nei sorgenti di FreeBSD o sono andato avanti o ho implementato tutte le dialog adesso questo utility e questa libreria si trovano nella base di FreeBSD se ve lo scaricate già ve lo trovate quando non vi ho fatto vedere l'install in realtà quelle dialog sono lo scrittore il programma c'è anche un port disponibile che vi potete installare in genere una versione più aggiornata di queste BS Dialog un altro progetto che ho realizzato io quando vi ho fatto vedere i port vi ho detto quando no vogliamo installarci un port ci esce un'immagine come quella che vedete a sinistra ci fa configurare il port prima dell'installazione possiamo andare a selezionare delle varie opzioni poi il port framework ci andano a costruire il port con quelle configurazioni qua questo anche l'ho fatto io è stata una richiesta di creare un nuovo programma che sostituisce il precedente sempre per questo problema di licenza questo programma quando lo installiamo direttamente viene installato automaticamente quando cerchiamo di installare un port e chiaramente c'è necessità di configurarlo il framework dei port lo va ad installare automaticamente su questo programma che vedete a sinistra che ci permette di configurare un port in modo interattivo c'è un problema queste interfacce nel terminale sono un problema di accessibilità ben conosciuta cosa voglio dire adesso non scendo in profondità perché non abbiamo tempo nella pratica le persone non vedenti ipovedenti che utilizzano degli screen reader per accedere ai nostri dispositivi non possono avere accesso a quel programma allora che cosa ho fatto dopo una discussione nella mailing list dell'accessibilità ne ho creato una versione 100% testuale con una command line estremamente semplice per permettere a degli utenti che utilizzano degli screen reader di installarsi i porti in FreeBSD in modo interattivo per utilizzare quel programma basta andare in etcmake.conf settiamo quella variabile d'ambiente che vedete là e chiaramente invece di utilizzare questo programma terminale utilizzerà questo qua 100% testuale l'accessibilità e ci avviamo verso la complessione molti utenti con disabilità visive chiedono come utilizzare FreeBSD in particolare dove si ha la documentazione dice io purtroppo non ci vedo in inglese io sono scecco io sono ipovedente voglio utilizzare questo sistema operativo come devo fare dov'è la documentazione in questo campo FreeBSD deve migliorare non c'è molto lo sforzo è considerevole c'è bisogno di nuovi progetti addirittura nei tre repository in base chiaramente vanno implementate delle utility native va scritta della documentazione vanno creati dei port e questi progetti vanno dal kernel all'interfaccia utente molti programmi open source che teoricamente potremmo utilizzare sono realizzati esclusivamente per Linux quindi c'è bisogno di uno sforzo per adattare e riscrivere il FreeBSD questo progetto richiede uno sforzo eccessivo chiaramente non ho cercato di farlo ma non c'è tempo come progetto open source volontario nel tempo libero chiaramente è realizzabile richiede uno sforzo eccessivo fortunatamente è giunto in aiuto la FreeBSD Foundation tra parentesi in basso vedete due immagini a sinistra vedete il sito di FreeBSD alla destra lo vedete come lo potrebbe vedere una persona ipovedente quindi c'è anche un esempio di ipovedente che cos'è la FreeBSD Foundation la FreeBSD Foundation è un'organizzazione non profit che promuove e supporta FreeBSD e la sua comunità globalmente tra parentesi possiede il logo e il marco di FreeBSD raccoglie delle donazioni accetta proposte e sponsorizza progetti per FreeBSD il progetto FreeBSD per saperne di più vi ho messo il link in basso la potete cercare FreeBSD Foundation la FreeBSD Foundation ho accettato io ho proposto questo progetto per l'accessibilità Vision Accessibility e appunto per permettere ad utenti daltonici dopovedenti e non vedenti di utilizzare FreeBSD il progetto quindi cosa farò l'ho presentato all'ultima conferenza che abbiamo tenuto qualche settimana fa a Dublina ovviamente tutti i progetti che saranno realizzati saranno open source saranno disponibili gratuitamente per chiunque voglia scaricare installare o utilizzare FreeBSD adesso sto lavorando vedete sto scrivendo un nuovo manuale sto scrivendo un nuovo book FreeBSD Accessibility and Book dove andiamo a scrivere tutte queste funzionalità legate alle tecnologie assistive presenti in FreeBSD dopodiché inizierò a lavorare all'alto contrasto molto utile per daltonismo e povisione devo andare a modificare le utility in base che usano appunto questa Texas Interface per permettere in modo semplice e documentato di passare in alto contrasto chiaramente anche l'installer del sistema operativo è incluso qui c'è un discorso di povisione che vedete a sinistra quello che vedete a sinistra è la virtual console di FreeBSD chiaramente non tutti riescono a vedere nuova quella console c'è bisogno di aggiungere delle nuove funzionalità che permettono agli utenti poi vedenti e non vedenti di utilizzare la console in particolare si deve mettere in comunicazione quella console con un sintetizzatore vocale chiaramente chi non può vedere lo schermo ha bisogno di questa voce sintetica che gli legge i componenti sullo schermo e nel terminale FreeBSD non ha un sottosistema per lo vedete là nell'immagine a sinistra in basso c'è una barra Braille non ha un sottosistema per le barre Braille bisogna anche progettare e implementare un sottosistema per i dispositivi Braille a destra vi ho messo un'altra immagine il sito di FreeBSD sopra in visione normale sotto un altro esempio di poi visione quindi vedete chiaramente senza quel discorso quella barra Braille questi utenti con disabilità visiva non possono utilizzare FreeBSD bisogna implementare il sistema Braille chiaramente anche l'installer deve essere modificato per permetterlo essere adatto a uno screen reader sintetizzatori vocali e barre Braille in realtà io ho creato anche molti progetti non mi voglio annoiare tengo sempre aggiornata la mia pagina wiki di FreeBSD ci trova anche la mia mail se volete comunicare con me se siete interessati a qualche argomento che vedete là di qualche progetto che ho fatto perché no ci possiamo mettere in comunicazione e possiamo contribuire a questo progetto open source ovviamente FreeBSD a molto altro non solo le cose che abbiamo visto oggi e anche le cose che abbiamo viste andrebbero approfondite un cornello efficiente gestione dei pacchetti che è molto di più di quello che vi ho detto adesso il file system ZFS virtualizzazione sicurezza reti compatibilità con Linux la documentazione vi ho fatto vedere un frammento ma la documentazione di FreeBSD è completa è una delle key features una delle caratteristiche più apprezzate supporto hardware configurabilità comunità altri file system eccetera qui vi metto alcune FAQ che mi fanno sempre alcune domande che ricorrono spesso fanno sui social più o meno sono sempre questa perché hai scelto FreeBSD e quali sono i vantaggi io vi do una risposta non entusiasmante lo so non piace nessuno io ho letto il codice torgenere di FreeBSD ho letto anche quello degli altri sistemi operativi open source personalmente ho scelto FreeBSD quali sono i vantaggi vabbè ve li cercate online vedo un po' le differenze tra i vari sistemi operativi e chiaramente vi si chiede quello che voi preferite cosa fai con FreeBSD in genere ciò l'ho installato sui miei portatili sui miei computer l'accendo leggo l'email ho fatto questa presentazione faccio videoconferenze scrivo dei programmi e quant'altro sono indeciso questa è un'altra che ricorre spesso l'ultima domanda sui social network sono indeciso sto studiando e cercando di capire cosa installare FreeBSD NetBSD OpenBSD ma in realtà questi sono sistemi operativi open source sono gratuiti non sono azioni quindi un investimento ad alto rischio ve li potete scaricare gratuitamente ve li installate se vi piacciono le utilizzate se non le cancellate il driver per la scheda X funziona su OpenBSD e NetBSD perché non funziona anche su FreeBSD questa è un'altra domanda che ricorre spesso chiaramente il problema e ho capito dove nasce la confusione dal BSD finale qualcuno leggendo OpenBSD NetBSD e FreeBSD potrebbe pensare queste sono distribuzioni del kernel di FreeBSD in realtà non è così quel BSD è solo per ragioni storiche sono sistemi operativi che sono partiti da quel sviluppo di quel sistema operativo di BSD che vedevamo all'inizio ma non sono distribuzioni del kernel di FreeBSD perché il comando Y non riconosce lo su FreeBSD non riconosce l'opzione Z oppure è diverso dalla distro di GNU Linux qui chiaramente forse la confusione nasce da Free davanti a FreeBSD qualcuno potrebbe pensare che Free di FreeBSD sia per la FreeBSD foundation no non è così in realtà le utility che sono su FreeBSD non sono quelle di GNU del progetto GNU sono utility native chiaramente sono completamente diverse è ovvio che ci può essere un output diverso e qualche operazione non riconosciuta io ho terminato grazie la prima domanda è il make install quando si compila un port è soltanto un tra virgolette wrapper per PKG oppure che fa gli archivi dentro l'altra domanda l'altra domanda è riguardo alla compatibilità con le utilità con le utilità lato utente BSD supporta lo standard POSIX ovviamente BSD abbiamo visto all'inizio BSD è UNIX è nato da UNIX quello vero quindi chiaramente c'è uno sforzo c'è un'attenzione quando escono quelle specifiche di POSIX c'è sempre qualcuno che si preoccupa di andare ad implementare chiaramente non sono implementate tutte ma nessun sistema di open source UNIX l'unico che dovrebbe avere ce lo dovrebbe essere il macOS ma quella è una cosa proprietaria ci sono dei programmatori pagati e chiaramente là si preoccupa di implementare tutto lo standard quindi chiaramente se voi scrivete un programma e rispettate lo standard POSIX funzionerà sia su Linux su Fibsd sia su MBSD se utilizzate ad esempio il systemd la scella usata è bash va bene potete utilizzarla ma funzionerà solo su Linux su questi qua chiaramente non funziona grazie 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 c'è un'altra presentazione sì grazie allora adesso invece aspettate sentiamo Luigi Teschio le due facce della prima pull request sfidi e opportunità nel contributo open source buongiorno e buon Linux day a tutti è sempre bello vedere tante persone nuove tante persone che frequentano l'alug Linux day ogni anno e oggi voglio parlarvi un po' del significato che può avere una prima pull request sia dal punto di vista di chi contribuisce per la prima volta per chi contribuisce per la prima volta a un progetto open source e quindi le sfide che deve affrontare quando contribuisce per la prima volta a un progetto open source ma anche l'opportunità che la prima pull request può essere può essere per un mantenere open source e di conseguenza per il progetto open source mi presento e sono Luigi Teschio e sono senior software engineer press automatic da circa tre anni sono mantener di un progetto open source e e quasi quotidianamente collaboro a Gutenberg che se avete utilizzato le ultime versioni di avete utilizzato le ultime versioni di WordPress sicuramente l'avrete utilizzato ho iniziato a lavorare un po' nell'IT fin da quando ero teenager e da sempre mi ha appassionato il mondo dell'open source e quindi diciamo questo talk può spiegare un po' quello che ho imparato nel corso della mia vita prima da contributor cioè cosa ho fatto quali erano le mie paure per mandare una quali erano le ansie nel contribuire a un progetto open source e poi cosa ho imparato invece dall'altro lato da essere un maintainer di un progetto open source piuttosto grande prima di tutto ci tengo sempre a precisare il concetto di comunità la comunità è un insieme di persone che hanno comunione di vita sociale condividendo i stessi comportamenti e gli stessi interessi anche noi siamo una comunità alla fine siamo tutti quanti qui perché siamo uniti dall'open source quindi open source vuol dire comunità e secondo Red Hat che è una definizione molto interessante il software open source è sviluppato in modo decentralizzato e collaborativo basando sulla revisione tra pari e sulla produzione della comunità è spesso più flessibile a una maggiore longevità rispetto ai suoi concorrenti proprietari proprio perché è sviluppato dalla comunità e non da una singola azienda ovviamente ho preso due progetti super famosi che possono rappresentare cosa vuol dire far parte di una comunità open source ho usato un tool per scanalizzare il repository del kernel Linux che appunto mi dà varie statistiche come i linguaggi di programmazione utilizzati il numero dei file e le linee di codice ma è impressionante vedere come il kernel Linux contiene circa 30 milioni di riga di codice che ovviamente se fossero sviluppate da una sola persona o anche da una sola azienda sarebbe impossibile ed è interessante notare anche le statistiche che si fanno dopo una release per esempio questo è un post fatto che dopo la release del kernel 6.10 dove appunto circa 2000 persone hanno contribuito al progetto Linux un altro esempio di progetto open source molto famoso è WordPress e anche in questo caso ho usato lo stesso tool e possiamo vedere che in questo caso ci sono circa un milione di righe di codice anche in questo caso per una sola azienda mantenere un prodotto così grande un milione di righe di codice sarebbe veramente veramente molto complicato e anche in questo caso WordPress fa il team di WordPress la community di WordPress rilascia delle statistiche diciamo sulle persone che hanno contribuito a quella release e in questo caso qui nel caso della release di WordPress 6.6 ci sono circa 640 persone di 53 paesi diversi che hanno contribuito al progetto ed è importante notare come per la prima volta 241 persone hanno contribuito al progetto WordPress per la prima volta quindi ovviamente possiamo immagini molti di voi possono immaginare che collaborare a un progetto open source è entrare in una grande stanza virtuale dove c'è un team che gestisce problemi di accessibilità un team che lavora sul front end un altro team che si occupa solo di gestire la community mentre questo diciamo è vero per progetti molto grandi come appunto il kernel Linux WordPress o altri tanti diciamo che non è tanto vero per progetti più piccoli o comunque che non hanno riuscito ad avere non sono riuscito a crearsi una community molto forte attorno al progetto e mi fa molto ridere questo meme che appunto dice come la gente si immagina che le app open source siano mantenute e come in realtà sono mantenute veramente che c'è semplicemente una persona che prima di andare a dormire risponde all'ultimo ticket e se siete sviluppatori o comunque lavorate nella sicurezza questo meme è molto famoso in quanto soprattutto negli ultimi anni ci sono stati dei problemi di grave vulnerabilità utilizzati quotidianamente e di come appunto tutta l'infrastruttura digitale moderna è semplicemente si basa semplicemente su un progetto di una persona random in nevrasca che lo mantiene dal 2003 quasi gratuitamente e due esempi che mi stanno molto al cuore per esempio è quello della libreria open SSL che appunto serve per generare i certificati necessari per le connessioni HTTPS che quindi utilizziamo ogni giorno ho scoperto questa vulnerabilità e si scoprì che il team che gestiva che manteneva questa libreria era davvero molto piccolo circa due o tre persone e un altro un altro esempio che posso fare è quella delle librerie javascript core CS che secondo le statistiche del mantener viene utilizzata da circa i primi cento siti l'ottanta per cento dal 80 per cento dei siti dei primi cento siti e ovviamente anche lui fa molta difficoltà a mantenere questa mantenere questa libreria proprio perché non ci sono aziende che lo sponsorizzano e non ci sono abbastanza contributor che decidono di contribuire a questa libreria quindi diciamo questo sta diventando un problema molto noto nell'ambiente open source che i mantener vanno in burnout e quindi decidono di abbandonare i progetti e purtroppo ne risente tutto l'ecosistema open source quindi abbiamo bisogno di voi di noi per far sì che la magia continua ad esserci che l'ecosistema open source continua a crescere ed evolversi ok ho iniziato questo talk dicendo che ho iniziato anche io come contributor perché mi piaceva la filosofia open source e molte volte all'inizio mi sono detto non posso perché è troppo difficile non ho le screen necessarie non so parlare l'inglese oppure non lo conosco molto bene quindi il mio lavoro è pubblico c'è il rischio che potrei fare qualche stravalcione che potrebbe avere delle conseguenze oppure che la community non accetterebbe le mie contribuzioni ma in realtà posso dirgli che uscire e superare questa comfort zone superare queste sfide è molto è molto stimolante anzi è molto importante e invito tutti in questa stanza in qualche modo a contribuire a un progetto open source c'è qualcuno che ha contribuito a qualche progetto open source con ok è bello vedere un paio di è bello di vedere un paio di mano alzate e voi per esempio quando avete contribuito al progetto open source eravate tranquilli c'era un po' di ansia c'era un po' di ansia ok e quindi in realtà anche voi che avete contribuito al progetto open source potete dire anche tu che forse credi di avere un gap nelle tue skills puoi contribuire cosa vuol dire contribuire contribuire significa partecipare prendere parte insieme con altri una cosa che ci tengo a sottolineare è che il software non è solo codice ma software è tanto altro quindi si può partecipare si può contribuire a un progetto open source anche se non siete sviluppatori alcuni esempi ovviamente scrivere codice è uno dei esempi per contribuire a un progetto open source leggere codice quindi fare code review oppure controllare problemi se avete conoscenze di accessibilità semplicemente leggere il markup dell'html e vedere se quell'html ha standard di accessibilità scrivere documentazione oppure tradurla se semplicemente conoscete tante lingue leggere la documentazione e trovare qualche errore e correggerla anche insegnare anche divulgare anche tutti i youtuber che raccontano e parlano dei progetti open source in qualche modo stanno contribuendo a quel progetto open source perché fanno sì che quel progetto sia più conosciuto e che potenzialmente persone che stanno scrivere codice persone che stanno tradurre possono contribuire a quel progetto quindi in qualche modo chi ha fatto un talk oggi sta collaborando a un progetto open source e sta facendo parte sta prendendo parte a una comunità e infine anche imparare e anche dire a un amico e mi sono visto questo tool perché non lo scarichi anche tu perché non ce lo vediamo assieme anche quello in qualche modo anche se indirettamente vuol dire aiutare un progetto open source con quale progetto posso iniziare a contribuire è una domanda che mi fanno molte persone quando parlo del mio amore verso l'open source e dico quello che ho fatto io contribuisci a qualcosa che usi regolarmente ovviamente contribuire a un progetto come Chromium sarebbe molto difficile però sicuramente utilizzerete progetti open source che sono più piccoli e molto più più facili per iniziare a contribuire e ovviamente un altro segreto è divertiti a rompere le cose è una cosa bella del nostro lavoro che possiamo rompere tutto alla fine non succede nulla di grave non andiamo in produzione semplicemente leggiamo l'errore possiamo capire possiamo cercare di capire il problema e cercare di risolverlo quindi anche un try error è un semplicissimo banalissimo try error può essere davvero utile per iniziare a contribuire al progetto open source ok sono andato sul mio profilo github e questa è la mia prima contribuzione che ho fatto su github al mio primo progetto open source che è del lontano 2013 e sono un grande fan del reader rss e all'epoca google aveva deciso di terminare il suo servizio di si chiamava google rss se non vado errato e trovai questo grandissimo reader rss chiamato comma feed che mi piaceva tantissimo che ho utilizzato per un po' per tempo però era scritto in inglese io non avevo skill tecniche all'epoca andavo ancora al liceo in realtà nemmeno il mio inglese era perfetto però ho detto vai avevo molta paura nel collaborare nel dire ok questo progetto mi piace ma cosa posso fare per dire ok mi piace voglio supportarvi quindi cosa feci semplicemente dalla interfaccia di kitab che semplicemente è un bottone un click apri l'editorio di testo e dissi ok cosa faccio traduciamo questo progetto quindi presi altri file di traduzione e semplicemente cambiare stringhe in italiano e infatti questa è la mia pull request che fu mergiata allo stesso giorno e quindi la cosa molto interessante la cosa che mi colpì tantissimo è che con la realizzazione successiva il mio reader rss era tradotto in italiano e quelle stringhe in italiano le avevo scritte io impressionante e questo è un esempio appunto che è semplicemente è stata veramente una contribuzione banalissima semplicemente la stringhe in inglese la traduceva in italiano ok abbiamo visto come possiamo come possiamo aiutare questa persona random in nebraska che sta sviluppando un progetto da solo dal 2003 ma vediamo adesso cosa può fare questa persona per farsi aiutare e far conoscere il proprio progetto ad altre persone questa è una cosa che ho imparato negli ultimi tre anni e pensate che nei progetti open source più grandi c'è un team dedicato solo a questo c'è un team che si occupa di mentorship e cerca di coinvolgere la community a farla a iniziare a contribuire attivamente a un progetto abbiamo detto che quindi i maintainer hanno sofferto di burnout possono soffrire di burnout hanno comunque grandi poteri perché comunque gestiscono le sorti del progetto e mi piace molto questo meme dove appunto questa persona su X dice io immagino semplicemente il maintainer come questa immagine di Spiderman che cerca di salvarsi dal burnout cercando di non far cadere questa nave nell'oceano di non farla affondare e però da grandi poteri derivano anche grandi responsabilità quindi una responsabilità di un maintainer è quella di aiutare gli utenti a diventare contributori promuovere inclusività e rispetto all'interno della community e riconoscimento dei contributori c'è una cosa chiamata funnel dell'open source che se venite un po' dal marketing sapete un po' cosa vuol dire ma semplicemente questo imbuto dove l'obiettivo del maintainer è ovviamente acquisire utenti però allo stesso tempo da solo un maintainer farà molta difficoltà a gestire un milione di utenti o anche centomila ma anche mille quindi l'obiettivo del maintainer è quello di far sì che alcuni utenti si trasformino in contributors e successivamente quei contributors si trasformano anche in maintainers quindi cosa può fare un maintainer per far sì che questo 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 imbuto funzioni che quindi gli utenti da normali utenti iniziano a diventare contributor e infine mantener scrivere la documentazione è super importante se siete sviluppatori uno dei problemi comuni è quello di settare l'ambiente di sviluppo ci sono progetti dove settare l'ambiente di sviluppo è semplicemente una settimana di lavoro e succede nelle aziende che si lavorano sui progetti privati dove appunto l'onboarding è semplicemente far capire al nuovo assunto come deve essere setappato quel progetto e ovviamente per un progetto open source richiedere una settimana solo per per startare l'ambiente di sviluppo è impossibile quindi avere una guida getting started è super importante in modo tale che il contributore che ovviamente sta spendendo del tempo per collaborare non può spendere una settimana solo per setappare l'ambiente e quindi avere una guida veloce scarica queste dipendenze ranna questi comandi e c'hai il software configurato e c'è l'ambiente di sviluppo perché adesso può iniziare direttamente a fare delle modifiche sul codice è super importante ma ovviamente scrivere documentazione questo diciamo la documentazione lato sviluppo ma poi è importante anche scrivere la documentazione lato prodotto in modo tale che le persone possano capire a fondo come funziona quel software creare good first issue questo è super importante e c'è anche delle varie aziende che sponsorizzano ad ottobre a novembre una diciamo una sorta di festival dove tanti progetti open source tra cui WooCommerce abbiamo partecipato un paio di anni fa che appunto possono creare good first issue cioè issue che non richiedono una conoscenza tecnica o comunque del dominio su cui si sta lavorando molto profonda quindi di solito capita anche quotidianamente a me che semplicemente uno delle issue è semplicemente cambiare un'icona non è super importante per il prodotto finale quindi apriamo l'issue e gli assegniamo la label good first issue abbiamo esempi cioè personalmente posso dire tante persone si divertono a lavorare su good first issue e pensate che ci sono delle board online che contengono solo good first issue nel senso quindi voi scegliete la vostra lingua il vostro linguaggio di programmazione preferito oppure anche del livello di documentazione in che lingua volete collaborare e vi escono tutte le good first issue riferimento ai filtri che avete applicato essere gentili è molto importante perché di solito a volte mantiene io sono piuttosto fortunato perché sono pagato per lavorare un progetto pensorso che è una fortuna che non tutti hanno e a volte quando faccio review a chi decide di contribuire a un progetto pensorso cerco di essere sempre gentile e anche se non sono tanto convinto delle modifiche che ha potuto fare cerco sempre di ringraziarlo e sono sempre disponibile a farmi dire puoi contattarmi in privato se hai domande proprio perché speriamo che quella persona abbia una abbia un'esperienza così facile che poi ha voglia di continuare a lavorare sul progetto quindi in questo caso avevo richiesto delle modifiche a una pull request però avevo scritto grazie per la sua contribuzione ti ho lasciato dei feedback però per qualunque problema non esitare a contattarmi e un'altra cosa molto importante è quello di condividere il tuo lavoro e quello degli altri contributor per esempio in questo caso ho condiviso su X un un API molto importante che un mio collega ha fatto e nonostante fosse stata fatta da mio collega molte persone della community o comunque utenti o comunque persone che sviluppano sulla nostra piattaforma di WordPress hanno visto questo tweet hanno messo like e poi sono andati sulla pull request e hanno iniziato a fare domande hanno chiesto anche perché questo metodo si chiama così questo API si chiama così e non si chiama in un altro modo è anche quello anche fare domande e contribuire a un progetto open source e poi alla fine molto interessante è quello di iniziare i contributori che hanno partecipato alla release di solito la maggior parte dei progetti open source piuttosto strutturati ad ogni release come abbiamo visto all'inizio e anche come nel caso di WooCommerce ad ogni release c'è questa grande pagina dove dice queste sono tutte le persone che hanno lavorato a questa release sia con codice sia scrivendo documentazione ed è molto interessante ed è molto bello perché mi è capitato anche in passato trovarmi su taggato su una pagina di release solo per aver cambiato semplicemente una stringa quindi voglio ribadire che la community è il cuore dell'open source ed in forse se teniamo tanto a cuore l'open source e il senso di community è molto importante che iniziamo a contribuire a qualche progetto open source e contribuire a un progetto open source come abbiamo visto non richiede tantissimo tempo se si vogliono fare modifiche abbastanza semplici e soprattutto collaborare a un progetto open source ha un dubbio scopo sia per voi in modo tale che uscite dalla vostra comfort zone vi arricchite professionalmente personalmente ma anche molto professionalmente posso assicurare che avere contributi nel mondo open source alle aziende interessa tanto e quindi anche se pensate sulla vostra carriera può essere molto impattante contribuire all'open source nel mio caso è stato molto impattante per molti miei colleghi è stato molto impattante e quindi credo che possa tornarvi utile e infine contribuire a un progetto open source è anche importante alla fine per il progetto open source stesso e quindi il mio invito è cercare di contribuire in qualunque modo vogliate ma comunque è davvero importante per far sì che l'ecosistema open source continui a crescere e continuano a prosperare come ha fatto negli ultimi vent'anni grazie mille qualche domanda grazie per l'intervento volevo sapere se nella tua esperienza sicuramente ti sarà capitato immagino però se nella tua esperienza ti era mai capitato che un tuo contributo open source avesse appunto rotto delle funzionalità o comunque creato danni e in tal caso la community come ha preso quella cosa cioè nel senso come ha affrontato quella situazione allora se ti riferisci come lavoro di contributor quindi prima che iniziassi a essere mantenendo un progetto open source non mi è mai capitato anche perché comunque se sei mantenendo un progetto open source prima di mergiare una contribuzione di qualcuno al di fuori del tuo team comunque ti chiedi un po' di tempo no? perché comunque non conosci quella persona come lavora non ha un capitale sociale no? con te o con il tuo team o con il progetto open source quindi ci vogliono molti occhi prima che quella per il list venga prima che quella pur di questo venga mergiata nel secondo caso direi di sì ma capita a tutti credo che questo è un augurio che faccio a tutti e non solo a chi lavora in mondo open source se ci sia un errore è importante che quell'errore che l'azienda il manager non punte il dito su chi ha mergiato quella pull request perché se quella pull request è stata mergiata se quell'errore è uscito in produzione vuol dire che ci sono stati tanti sbagli prima come gli unit test mancati end to end test mancati code review perché altre persone prima di mergiare il tuo codice spero dovrebbero guardare il tuo codice quindi in quel caso cosa si fa? si fa una retrospettiva si analizza quali sono stati i gap e si prova a migliorare ovviamente poi è importante sbagliare umano cioè è una cosa che mi è sempre stata detta soprattutto quando ho iniziato a lavorare in automatic dove sentivo un po' la pressione no? che solo se non fai non sbagli e questo è molto importante mi è capitato un po' poi il nostro settore soffre un po' sopra tutti sviluppatori soffre un po' della sindrome dell'impostore no? che hanno l'ansia di sono all'altezza di fare questo ma se sbaglio questo cosa succede? non mando il curriculum a quell'azienda perché credo di non essere tanto bravo cioè mi è capitato con me quando ero mandato ad automatic no? era detto impossibile che mi chiamano però in questi tre anni stando a contatto con tante persone nella community e quindi fare e cercando di spingere a contribuire e rompiamo le cose cioè fortunatamente almeno nel mio settore penso nel 90% delle persone che lavorano in IT comunque lavorano in campi sicuramente importanti ma avere qualche 30 minuti un'ora di down può far perdere soldi però succede anche a Google Facebook è importante raccogliere i dati e capire come possiamo far sì che questa cosa non accada il vero errore sta nel non lavorare su questa cosa dopo che si è fixato a me mi è capitato per esempio di fixare bug in produzione e poi ok l'abbiamo fixato in produzione va bene e invece dicevo no dobbiamo analizzare perché cosa è successo perché quel bug è arrivato fin qui però bisogna lottare per cambiare un po' questa cultura nelle piccole e medie aziende grazie va bene allora vi invitiamo a prendere parte al nostro piccolo pranzo l'abbiamo chiamato pranzo leggero ho visto a prendere parte a prendere parte di Grazie a tutti. Grazie a tutti.